Ehi, che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. E da Norlondo sai che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. L'impatto, come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia caima arriverà. Ma va... Ma va... Ma va... Ma... Ma va... Ma va... Ma va... Ma va... Ma va... Ecco fatto. Beh... È terribile. lo prendo come un complimento buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ben ritrovati bella lì ragazzi bentornati bentornati in live bella bella Giacomo grazie del ride ho distrutto come si chiama questa roba qui la maschera che si usa per la live 5 minuti fa involontariamente grazie a Aster, grazie mille del Prime e quindi l'ho ricostruita al volo come vedete la chat ha uno zoom diverso quindi che cosa significa che io adesso prendo il chat box ah devo andare nelle opzioni scusate ragazzi ho fatto no 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 ho fatto la strozzate stavo cancellando le maschere che non uso tipo di vecchie blind run eccetera eccetera rimuovi 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 ho rimosso quella che invece uso grazie Dandy grazie mille beh è arrivata ora la notifica e quindi vabbè non saprei non saprei se mettermi adesso non è che sia complicato se mettermi adesso a cambiare la dimensione dei caratteri della chat però viene resa straordinariamente multicolor rispetto alle altre volte non vedete non c'è neanche nella scritta abbonati al canale per evitare la pubblicità e fare le buzz grazie a IMAX Paolo e Falconero e Luca io so che si sono parlati si sono parlati a lungo e quindi io penso che vada tutto bene grazie Dillon Gog grazie mille del Prime c'è questa bottiglia che è in gocciola e gli accelerazionisti e non lo so io penso che abbiano poi abbiano poi ragazzi le cuffie adesso ne prendiamo non ho visto non ho visto il contenuto di Luca ho letto un paio di post di Luca recentemente uno su The Last of Us parte 2 e un altro sui feedback che ha ricevuto però non ho visto i feedback quindi non capisco e va bene insomma io penso che sia stato fin buono lui con Tlow 2 e che cosa volevo dire le cuffie le cuffie ragazzi le ho comprate voi siete liberi liberi liberissimi di non crederci lo capirei ma le ho comprate o meglio le ho ritirate stamattina dal tabaccaio perché le ho fatte mandare lì però ce l'ho ancora nella tasca del cappotto praticamente io ho questo computer fisso che in realtà non ha neanche il bluetooth o bluetooth come dicono alcuni e quindi ho preso la chiavettina bluetooth e le cuffiettine piccoline bluetooth però devo avviarle devo configurarle giovedì ragazzi giovedì siamo con le cuffie e possiamo ascoltare cose con l'audio ve lo assicuro le orecchie da gatto ci sarebbero molto bene devo dire la verità non ho fatto sono cuffie scusa colpa mia non sono cuffie sono auricolari ho preso degli auricolari bluetooth bluetooth e quindi niente stiamo stiamo progredendo stiamo sì sì tipo degli airpods però di una sottomarca di quelle consigliate amazon consigliati amazon da pochi euro insomma in tutto avrò speso forse 29 euro grazie dimmi grazie mille del prime e quindi e quindi bella musotros ma guarda un po' chi si vede e quindi siamo messi così io appena ero più zoomato le altre volte e vabbè sentite sono zoomato così oggi e la serie di glow però 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 la serie di glow non è su su amazon prime che è tipo l'unico abbonamento che ho in questo momento è su sky è su sky non che non abbia mai visto cose che non avrei potuto vedere diciamoci diciamoci proprio tutta la verità non lo so magari la vedo è bella avete visto ecco vi voglio fare una domanda avete visto la prima puntata leggevo che si è potuta vedere si è potuta vedere la prima puntata non so se non viene trasmessa fuori da boston per quello che sapevo è piaciuta è piaciuta vapor bene 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 è un capolavoro il filz l'autore l'autore dice c'erano mele fighe come serie si 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 beh dai no a Leo Piero però non è piaciuta attenzione balzar bella balzar grazie del prime ok ok un po' di fotocene fedele qualcosina di inedito non ha più senso se non videogiochi vabbè lo vedremo lo vedremo lo vedremo oggi abbiamo io ho messo due articoli anzi tre tre articoli in lettura due del post e uno del tascabile tanto per andare sui classici classici siti allora una cosa fondamentale so che moltissimi di voi mi hanno moltissimi è forse un po' un'esagerazione alcuni di voi mi hanno scritto a 9-8 rispetto a Breaking Bad 9-2 a posto e be 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 e molti di voi Victor ha detto che sia una serie che sia una serie amazing e si è commosso poi ha fatto una storia ad per sponsor è sempre scritta da Druckmann ok 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 vabbè insomma sentite prima o poi la vedo che cosa stavo dicendo una cosa beh gli articoli ah sì no molti di voi mi hanno scritto molti di voi mi hanno scritto molte cose diverse e con calma insomma con calma rispondo con calma rispondo sono molto d'accordo con Shelius e bene bene ragazzi spero stiate stiate tutti molto bene abbiamo degli articoli per leggere questi articoli adesso che devo rifare la scena devo aggiungere vedi sorgente alla scena quindi ho fatto bene a definirla una scena devo aggiungere il pesca il desktop acquisizione schermo direi che sei tu metto un bello screen capture adesso non preoccupatevi screen 1 non fate quella faccia però screen capture lo mettiamo sotto a tutto quindi ora screen capture è sotto a qualunque cosa e e bella puccia grazie mille del prime a questo punto se screen capture è sotto a qualunque cosa io facendo così esattamente bene 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 a questo punto noi mettiamo gli articoli qua perché mi sono domandato ma il post il post mi legge mi segue non lo so però c'è questo articolo che non ho ancora letto non ho ancora letto no no anzi adesso sto usando un bravo c'è sempre Chrome ma un account apposta per le live non rischio di condividere roba super private mi sono domandato ma il post mi legge lo scopriremo leggendo o mi segue lo scopriremo leggendo questo articolo del 16 gennaio che presentandoci l'immagine di una persona che giustamente fa quel cazzo che vuole e quindi farà poi quel cazzo che le pare ci ci parla dei fan nulla di sconvolgente nulla di sconvolgente vediamo che cosa racconta se ci sono delle cose che ci sconfinferano c'è da dire sul post che la mia la mia opinione sul post è molto cambiata nel corso degli anni vi dico la verità e rimane sempre nel deserto delle pubblicazioni online made in Italy e rimane sempre da seguire ovviamente perché sono degli articoli interessanti delle cose delle cose carine eccetera eccetera però 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 inizio ad avere una bassa una bassa bassa tolleranza verso questa testata troppo wokeism bella pronuncia in più in più un certo paternalismo un certo anche atteggiarsi un po' baricchiano ci sono lo stile con cui è scritto il post sembra a volte un po' uscito dalla scuola Holden e un'altra cosa che sì esatto Chanel penso che non potevi dirlo meglio di così molti articoli un po' paghi una cosa che non amo particolarmente del post e se non sbaglio non lo fa solo il post è dire la cosa X spiegata bene la cosa Y spiegata bene a me questa cosa già mi dà fastidio perché che la cosa X tu l'abbia spiegata bene lascialo dire agli altri non te lo dire da solo che te la spiego bene è una cosa che in generale a volte il post è così sì sono molto indulgenti verso se stessi nello stile e danno un po' per scontato che loro sono loro se al post gli togli The Atlantic gli togli New Yorker gli togli New York Times e qualche altro sito al post gli togli anche i contenuti quindi non so me la tirerei un pochino di meno in generale in ogni caso sì diciamo che ci tengo a dire questa cosa perché comunque si evolve molto e si cambiano hanno fatto anche la rivista periodica esatto ma l'ho anche vista in libreria pensate un po' e no non è solo una serie di libri che hanno fatto è anche una serie di articoli che si intitolano così da cui i libri autocitandosi prendono il titolo grazie Orfeo c'è anche una città di una docente della scuola Holder bene bene ma che schifare allora ci andiamo proprio con tutte le scarpe che cosa che cosa volevo dire una volta ero uno delle gruppi del post no cioè esiste e lo vedi anche nei commenti di questo sito che ora sono sono per gli abbonati esiste una categoria della quale io ho fatto parte una categoria umana che di solito sono studenti universitari in gamba ma ancora molto nella fase del crediamo nelle favole che li riconosce sono quelli che che si bagnano sotto gli articoli del post sono un tipo umano secondo me molto riconoscibile da quando dire che non ne faccio più parte è dire poco da quando mi sono veramente distaccato da questa categoria che penso sia anche molto presente nei miei follower la vedo con occhi molto diversi rispetto a un tempo sono 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 i buoni ma i buoni non saprei come dirli i come potremmo definirli i buoni i buoni generici sono i buoni generici il cavaliere bianco 2-2 attacco improvviso i buoni generici sono è così un po' è così ma di solito stanno in quelle facoltà umanistiche no un po' così ma che chi sanno questi cazzi i buoni un po' cheap o i buoni un pochino cheap esattamente esatto esattamente esattamente ma online non leggo quasi nulla rigava cosa leggo online praticamente nulla ultimamente ultimamente leggo sì la sinistra americana liberal però digerita dalla dalla sinistra italiana che non sarebbe tanto libera ultimamente che cazzo leggo che cosa c'è online di bello da leggere cosa c'è di bello online da leggere silicon non c'è mica un cazzo da leggere di bello online in Italia difesa online bag du pen grazie del prime valigia blu che come diceva Rick sarebbe meglio chiamarlo valigia rossa però sì anche quello lo leggo ci sono degli articoli interessanti di tanto in tanto l'imes però c'è il wall il paywall se non sbaglio boh non lo so ogni tanto leggo leggo dagospia perché dagospia ti riposta the vision ti riposta degli articoli che stanno dietro paywall quindi puoi leggere della roba che dagospia ti riposta c'è un'incredibile quantità di tetteculi per il resto c'è tanta spazzatura all'interno del sito stesso ma difesa online difesa online boh leggo ogni tanto ma difesa online secondo me hanno delle fratture nel senso io non mi sono mai appassionato di chi siano i singoli autori degli articoli devo dire la verità e difesa online mi sembra che abbia degli articoli grazie sonar grazie mille del prime mi sembra che abbia degli articoli che al di là delle analisi diciamo così tecniche propendono da un lato articoli che propendono dall'altro non so se il tizio credo ma solo dalla prosa non so neanche chi sia lui se il tizio di operazione operazione sciame di fuoco ci scriva ancora mi sembra qualcos'altro l'ha scritto di sicuro perché ogni tanto leggi degli articoli in cui la grande madre russia si mangerà il mondo e invece altre volte leggi degli articoli che i russi devono morire quindi non si capisce bene però vabbè giustamente in generale operazione papro poi ogni tanto vado sul vado sul sito vado sul sito il foglio il foglio il foglio sapete cosa il foglio ce l'ho nel mio input roll il foglio però ha tantissima roba dietro paywall e non ah sapete qual è la sfiga che adesso ha anche il corriere della serie cazzo dico il sole 24 ore è tutto dietro paywall oppure dovrei accettare i cookies voi capite che non posso accettare i cookies quindi il sole 24 ore ultimamente lo sto lo sto guardando poco il foglio il foglio non lo so ragazzi cioè tutti questi tutti questi giornali contengono ciclicamente anche cose fastidio lo leggo fastidio si fastidio si il foglio certamente contiene cose di qualità di tanto in tanto per carità però non so mi fa non lo so ma anche il post in realtà cioè tu vedi queste testate e riconosci subito in un attimo quella è la loro visione del mondo e non ci mica niente di male perché c'è di male ognuno ha la sua visione del mondo e fa benissimo però boh sai quelle testate che dici ma la smetti di dirmi come devo pensare ma la smetti di dirmi come devo pensare dai su e d'altra parte dovrebbero solo riportare i fatti ma non esiste riportare i fatti senza discorsi già fatti a proposito dei fatti e quindi e quindi poi in ogni caso c'è sempre il discorso il discorso so che si possono aggirare i paywall ma non ho mai avuto lo sbattimento di farlo so che mi piace e voglio anzi reiterare un discorso che abbiamo già fatto grazie a chi è contento di rivedermi grazie siete molto gentili e vorrei reiterare un discorso che abbiamo già fatto che in realtà ritengo ritengo estremamente valido che è ci ho fatto anche dei video adesso non lo voglio andare a linkare li troverete sul discorso dell'essere informati partiamo da un presupposto che è ovvio ma poi non è così ovvio eccetera eccetera cioè andare sui siti online a leggere quello che succede nel mondo è essere informati quando va benissimo di terza mano rispetto alle grandi agenzie ok c'è il fatto che lì ci sarebbe la prima mano c'è la grande agenzia di stampa e c'è il sito che lavora di riporto quindi una terza mano quasi sempre siamo informati di quarta o di quinta mano questo però non significa che da qualche parte c'è il paladino della prima mano c'è il sito nascosto nel deep web infatti la prima mano non ce la mette nessuno non ce la mette quasi nessuno spesso le prime mani ma questo ovunque a qualunque latitudine sia ben chiaro le prime mani sono estremamente interessate qualunque contesto è agghindato da scena del crimine posticcio anche quando il crimine c'è stato veramente quindi in ogni caso il nostro essere informati senza voler per forza arrendermi è comunque un po' illusorio detto questo diciamo che comunque mangiamo tantissima informazione ne mandiamo giù tantissima va bene voglio dire internet è pieno di informazioni soprattutto una cosa interessante noi mandiamo giù un sacco di informazioni che non cercavamo c'è un meme o una battuta tipica di internet adesso non ricordo esattamente che dice sono informato sui Kardashian contro la mia volontà di quante cose siamo informati tra virgolette contro la nostra volontà perché ci tamburano i timpani attraverso i siti generalisti quindi c'è anche quell'aspetto lì ma poi c'è qual è qual è il reale impatto qual è il reale impatto dell'informazione e il paywall è che devi pagare per leggere gli articoli qual è il reale impatto di questa tra un po' di virgolette informazione sulle nostre vite io credo che sia un impatto per lo più di conversazione noi facciamo tutti parte di determinate cerchie sociali all'interno delle quali si fanno si fa conversazione e questa conversazione forse potremmo anche chiamarla flirt e per flirtare noi abbiamo bisogno per flirtare bisogna anche darsi un tono se no voglio dire la natura lo insegna se no alla copula ci arriva qualcun altro quindi ogni contesto al limite ogni interlocutore richiede un background specifico o lo richiederebbe eventualmente e quindi molto spesso l'informazione per noi è un biglietto come no si paga il biglietto per entrare all'interno di una cerchia X o di una cerchia Y quale poi sia davvero l'impatto dell'informazione sulle nostre vite cosa davvero ce ne fotta di quello che leggiamo sono abbastanza scettico per non parlare del fatto che divoriamo veramente di tutto ma magari questo articolo un pochino ne parla no no si possono e come condividere dei link fighi se avete dei link fighi condivideteli assolutamente la nostra intenzione di voto sì eventualmente sì ma anche quella è una cosa che non sopravvaluterei onestamente grazie Devil Fox ora la cosa che mi fa molto ridere ad esempio se pensiamo alla politica italiana la cosa che mi fa molto ridere è se io fossi un elettore fossi stato fate mente locale un secondo se io fossi stato un elettore della Lega prima del governo giallo verde ok o fossi stato un elettore della Meloni prima di questo governo cioè io adesso dovrei mi sarei subito dovuto incazzare all'epoca perché tecnicamente Savona andò a calare le braghe all'Europa in Europa immediatamente all'epoca tecnicamente salvo i soliti distingo l'agenda Draghi che fa e questi erano gli unici all'opposizione quando c'era Draghi indipendentemente dal fatto che posso magari gioire del fatto che alcune come si può dire alcuni armamentari retorici che vengono usati dai politici alla fine siano solo armamentari retorici per all'occhi che credono che possano trasformarsi in realtà che sarebbe ancora peggio al di là di questo è comunque evidente che la tornata elettorale ha a che fare con ciò che poi i governi faranno un pochino un pochino 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 però vi ragioni esiste la realtà e questi spacciano sogni per farci votare quindi alla fine io non credo neanche che sia tanto magari ci sono degli idealisti o dei mecenati idealisti che finanziano testate perché pensano di influenzare l'opinione eccetera ma è sempre il discorso dei frontman e del cosiddetto teatrino al di là di tutto è abbastanza innegabile secondo me non credo non credo non credo proprio mafiosi e videogame ma questo però è da leggere e questo però è da leggere e questo è da leggere e abbonati tu pd aspettate scusate se mi dovessi abbonare a ogni giornale che mi chiede di abbonarmi ragazzi è la fine dopo lo leggiamo sapete che ci sta no vecchio non mi rompere ok dopo lo leggiamo dopo lo leggiamo il pentito aveva anticipato in tv a giletti l'arresto mattino lo ha letto solo il titolo con un mese di anticipo dicendo persino la data esatta dell'arresto ah figo ah figo crimson figo figo beh magari giovedì ci guardiamo in ogni caso adesso spero che so che molti di voi e non è uno scherzo vediamo vediamo al salitore adesso ci pensiamo molti di voi hanno letto divertirsi da morire altri lo inizieranno a leggere eccetera a fronte delle considerazioni traslate su internet che fa postman della dell'onnipresenza della pervasività dell'intrattenimento del fatto che scegliamo di seguire politici o influencer ma o e o stessa cosa sono sulla base del personaggismo di fatto sulla percezione che però è strategia dall'altra parte di una di un carattere di caratteristiche superficiali comportamentali pensate pensate anche soltanto pensate anche soltanto al mondo della divulgazione a parte la demistificazione che deve essere fatta di quel mondo lì che poi alla fine è il mondo delle curiosità degli aneddoti scientifici che come al solito ci rivendiamo perché speriamo di svegliarci in letti stranieri grazie alla lingua italiana ma pensate al mondo della divulgazione quanto un canale di divulgazione no prima c'era Giacomo che ci ha fatto il ride quanto un canale di divulgazione ha la necessità di comunicare in un certo modo e magari un canale di divulgazione faccio l'esempio di quello che vi citavo migliore di quello che ho trovato in Italia uno dei migliori che è random physics però non è così sexy eccetera eccetera quindi noi comunque siamo qui a guardare personaggi a vedere a pelle questa Meloni quel Salvini quel Boldrin quel Giacomo è tutto è tutto estremamente diverso da come ce lo spacciamo di fatto la stessa potremmo in qualche modo definire la stessa interazione fra esseri umani uno spacciarci reciproco di illusioni e costruzioni sognanti per non lo so non voglio essere volgare per avere orgasmi più intensi e quindi ora che cosa ah sono contento Aster sono contento che cosa volete lo vedete persino il post non è la figura di Sofri in sé il post come testata è personaggioso è personaggioso e l'abbiamo parlato tante volte magari non è più così sono anni che non guardo più i commentatori sotto i video di Shai la stessa cosa tu lo vedi che cosa che cosa ci stiamo scambiando noi non ci stiamo noi apparentemente ci stiamo scambiando informazioni oh boh che cazzo ne so opinioni ma noi non ci stiamo scambiando questo noi ci stiamo scambiando una una sensazione di fare parte di un gruppo e come sempre a qualunque livello la retorica è sempre la stessa noi siamo meglio di loro il nostro gruppo il gruppo di cui noi facciamo parte è o non è il migliore siamo o non siamo i migliori noi e noi possiamo essere quelli che leggono il post gli occidentali gli orientali quello che mi pare abbiamo sempre questa questa necessità di stare al sicuro di trovare i nostri simili ma i nostri simili perché cosa li cerchiamo se siamo giovani per molte persone cercare i nostri simili e cercare il simile con cui costruire una famiglia è cercare il simile con cui sentirsi rassicurati da una visione di mondo simile che scusate la ripetizione che d'altra parte ti garantisce dal saltarsi alla giugolare ogni tre parole che si scambiano cerchiamo anche una certa tranquillità bias di conferma bias di conferma siamo io e te siamo dei bias di conferma incarnati non siamo altro che dei bias di conferma che deambulano quindi è tutto molto cioè è banale dirlo ma c'è un livello superficiale con cui possiamo guardare le cose e discutere delle cose e c'è un livello più profondo che vede nei social come li usiamo come ci scambiamo anche le cose che stanno fuori dai social cioè sui vari singoli siti una grande 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 lotta reputazionale c'è chi vuole accoppiarsi per le prime volte per costruire chi si è già accoppiato anche con gli alberi e vuole forse ancora accoppiarsi con qualcuno non lo so noi noi davvero questo discorso è veramente deragliato ma voi dovete avere pazienza e capire che ho la mia età noi noi davvero non facciamo altro che illuderci a vicenda ma vi dico questo madonna è assurdo perché tutto questo discorso sarà con questa cosa a schermo che sembra che stiamo parlando dell'epoca d'oro dei fandom ma questa gag caratterizza queste live da sempre noi ci scambiamo le nostre illusioni per sognare forte per sentirci perché in realtà proprio come i cattolici che magari qui spesso noi deridiamo in realtà non concepiamo di vivere senza credere avete presente quando parlate con un cattolico o uno che ci crede un sacco o di un'altra religione monoteista quella che preferite e di solito le obiezioni sono spesso riconducibili a un ma se non ci credi è brutto ma è bello crederci non puoi non crederci non c'è un'etica senza Dio invece etica senza Dio di Le Caldano l'avrete letto eccetera eccetera ma alla fine questo vale per tutte le illusioni umanistiche che anche gli agnostici diciamo agnostici si scambiano se tu inizi a chiamare le illusioni per quello che sono le obiezioni che ti senti fare dall'ateo che sono le stesse che ti sentivi fare dal cattolico se parlavi di Dio sono sempre le stesse ma come sognare quello che faranno le generazioni dopo di noi ma se non pensi a questo è brutto ma è una fandonia una fanfaluca favolistica inverificabile esattamente come Dio è però nobiltà d'animo se non così cos'altro è sempre tutto così quindi noi in realtà è come dei camerieri che girano a un ricevimento reggendo tutti i bicchierini con lo champagne noi giriamo tenendoci scambiandoci neanche le nostre le nostre illusioni per non dire le cose come stanno ma in questo senso illudersi a procrastinare è procrastinare l'inevitabile presa di coscienza recentemente stavo pensando questa cosa qui stavo stavo riflettendo sul personaggio che mi hanno sempre affascinato e in qualche misura mi affascinano ancora i super produttivi e i super produttivi di solito usiamo le metafore sportive perché il mondo sportivo estremamente semplificato facilita l'equazione super mega cool super mega successo in modo regolamentato non è davvero così ma non importa quindi i Kobe Bryant oppure i Michael Jordan oppure se preferisci i super personaggioni dei social che outworkano chiunque anche di recente sentivo parlare di Beyoncé e non mi ricordo chi diceva che lei outworka chiunque cioè lavora più di tutti gli altri e quindi la super mega produttività la produttività di chi posta le stories online che sono le 4 del mattino tutti i giorni alle 4 del mattino eccetera perché no se uno gli piace fa benissimo e quindi stavo pensando a tutta a tutta questa costruzione intorno alla alla iper produttività eccetera eccetera e ero giunto a questa conclusione apparentemente paradossale che è diventato un ossimoro l'iper produttività è procrastinazione il adesso io non conosco di persona Dwayne Johnson The Rock magari la persona più consapevole del mondo quindi lo uso solo come personaggio il Dwayne Johnson è un procrastinatore lui sta procrastinando il suo contatto con la realtà siamo siamo dei procrastinatori di consapevolezza e non facciamo oltre che questo ed è inutile dire io non credo nella madonna ma credo nella fisica allora sono consapevole ma poi però magari sei qui a scambiarti gli aneddoti a scambiarti le curiosità d'altra parte pensate alla divulgazione quella che ci nobilita seguire le cose divulgative su internet siamo belli pensate nasce tutto con Quark almeno qui da noi quello che ci può venire in mente vi ricordate Quark quando alla fine c'erano Barbero before it was cool c'erano tutti le pillole alla fine di Quark un aneddoto su Carlo Magno come girano le comete come ti si infilano gli elettroni nel culo ed eri dalla parte bella del mondo non sto dicendo che l'altra sia l'altra che poi non lo so magari è il palestrato di Ostia che vota Casa Pound non sto dicendo che sia meglio ma siamo siamo sempre qui a procrastinare è una grandissima procrastinazione ma la procrastinazione non è il paper che devi consegnare domani quella non è la procrastinazione la procrastinazione è quella che noi facciamo rispetto alle illusioni noi non facciamo altro che procrastinare la presa di coscienza sulla nostra natura che conosciamo che se almeno abbiamo abbandonato la Madonna e Gesù Cristo magari in realtà la conosciamo benissimo ma come vi posso dire non mi ricordo perché sono finito a fare questo discorso comunque sia ma in tutto questo non c'è neanche bisogno di diventare comediogene bisogna essere sinceri ma non è possibile perché non vende forse ora ne parliamo visto che hai menzionato Shine nel video di ieri per anticipare le domande che arriveranno su come Denaro sia rimasto latitante per 30 anni arriva a dire che alla fine sopportare la piccola evasione è un po' la stessa cosa di sapere del nascondiglio di Messina Denaro e non dirlo a nessuno la cultura l'omertà non esiste siamo tutti colpevoli e quindi tutti innocenti ah cacchio Volpeon io adesso non ho l'ecu ti scoccia questa cosa la voglio vedere anch'io giovedì ce lo guardiamo sta cosa qui se me lo riclicchi giovedì ne nasce qualcosa di bene per l'umanità dipende tendenzialmente sì no non credo da quello che so Falco Nero e Luca Wright si sono si sono chiariti da soli e e quindi non c'è bisogno che io ospiti sto procrastinando di quello c'è bisogno che io ospiti il sì è vero che sto procrastinando ma ce le ho in tasca ragazzi lo so è incredibile sta gag sembra che vi stia prendendo per il culo e no le ho già ordinate le ho già comprate le sono andate a prendere stamattina non ho fatto l'installazione perché il mio computer non ha il bluetooth e quindi sti cazzi giovedì siamo con le cuffie che poi in realtà non sono cuffie ma sono auricolari ragazzi questa cosa l'ho già ripetuta grazie Jetson grazie a Level Prime e e quindi e quindi e quindi avrei potuto lucrare sul dissing però non mi interessa cioè è importante che che tutto vada per il meglio allora l'epoca d'oro no ma in tasca nel cappotto che ho appeso di là ragazzi non ho voglia di alzarmi che sono non in mutande ma comunque questi breghini dai per piacere ma sì ma sì ma sì sulla natura nostra noi noi possiamo intervenire nel momento in cui accettiamo che interveniamo tra parentesi ma è il solito discorso del libro arbitrio cioè noi non possiamo in un certo senso noi non possiamo che percepirci come artificiali versus naturali non possiamo che percepirci come autori del nostro agire come qualcosa di meta rispetto al mondo naturale ovviamente sappiamo che non è così alla fine sappiamo solo che sono degli atomi che sbattono gli uni sugli altri tanto per essere proprio dettagliati da un punto di vista fisico sti cazzi sti grandissimi cazzi io credo che che la cosa la cosa la cosa buona sia essere sinceri io credo che anche da un punto di vista delle provarci provarci anche da un punto di vista delle relazioni interpersonali noi non dovremmo sapete quelli visto che abbiamo l'immagine di un fan qui noi non dovremmo cercare il partner o la partner o quello che è che ha i nostri stessi gusti non so questo qui magari uno che piace star trek o che ne so io noi dovremmo cercare noi dovremmo cercare nelle relazioni interpersonali quanto più possibile il far cadere le maschere che gioco forza indossiamo nei nostri rapporti però ci potremmo domandare segno è tutto ciò che può essere usato per mentire o segno è tutto ciò che non può essere usato che per mentire se ogni scambio comunicativo è seduzione vediamo 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 il riscattamento globale esatto esattamente esattamente e cosa volevo dire leggiamo quest'articolo l'epoca d'oro dei fan no ma ragazzi anzi vi leggo cioè se avete se avete se avete se avete dite io molto volentieri molto volentieri non lo so non lo so sono così mi sembra mi sembra che noi chiamiamo le cose con un nome che non è il loro ma non è un discorso semiotico e cosa stiamo evitando di fare procrastinando stiamo evitando di a mio avviso di prendere coscienza della realtà e vivere sulla base di quella coscienza siamo davvero così sicuri che vivere sia possibile soltanto facendo finta di non sapere quello che sappiamo perfettamente perché se è così se è così ma perché non Cristo la Madonna uno dice ma per la maggior gloria del genere umano per il grande progresso ma io adoro la tecnologia e la scienza ciò nonostante il famoso tweet del tizio lì di Tim Urban famoso per me il raggiungimento con la propria morte soggettiva della morte termica dell'universo grazie il macigno di Sissifo credo credo che sarebbe più bello ovviamente viva il progresso nei limiti di cosa ognuno poi ritiene il progresso ma credo che sarebbe bello scambiarsi più più saggezza più consapevolezza che non è non corrisponde non sto demonizzando lo scambiarsi informazione ok ma sapete che informazione è una parola complicata ma non corrisponde lo scambiarsi informazioni perché viceversa noi ci siamo dati degli strumenti e ora ne discuteremo forse non è neanche più corretto parlare di seduzione forse è corretto parlare di una seduzione reciproca questo lo diceva Han nel libro che ho smerdato l'altra volta in realtà un po' di spunti interessanti ci sono finiamo per fare un discorso di seduzione reciproca di recensione reciproca per cui in realtà siamo tutti adesso lo sto dicendo diverso da come lo dice lui ma insomma siamo tutti il cliente l'uno dell'altro comunque andiamo con Dio e la Madonna ma come facciamo ad andare con Dio e la Madonna per quale motivo dovremmo andare con Dio e la Madonna non c'è una buona ragione per farlo il problema di Dio e la Madonna io ragazzi parlo da persona che non ha mai avuto il dono cosiddetto della fede neanche un giorno nella sua vita il problema di andare con Dio e la Madonna come fai beh non voglio essere troppo offensivo vorrei cercare di dirlo senza insultare mezzo mondo ben più di mezzo mondo purtroppo come fai a credere dopo che diciamo hai guardato in faccia la realtà a questo discorso vale a noi piacerebbe che questo discorso valesse solo per Dio e la Madonna perché lì facciamo i fighi lì facciamo i fighi ma Dio e la Madonna sono molto più subdoli o Babbo Natale sono molto più subdoli ci sono ci sono ci sono molte lo dico ci sono molte più madonne di quanto uno si possa immaginare è questo il mio discorso è questo il punto ci sono veramente più madonne ci sono veramente più madonne in terra di quante ce ne siano in cielo perché a rigore una Madonna grazie Pietri a rigore in cielo di Madonna ascesa dogma della chiesa tra l'altro ce n'è una mi risulta è ascesa la Madonna è ascesa ed è pieno le Madonne le Madonne sapete sapete tra l'altro la quantità di Madonne prima sono rientrato in casa e voi non avete idea di quante Madonne c'erano mi sono tolto le scarpe bagnate sul pavimento non parquet per andare sul parquet perché fuori era bagnato e allora ero con i calzini e ho pensato ma non mi ero accorto che questo calzino avesse tutta questa pieghetta sotto e ho continuato a camminare sul parquet ma mi sembra un po' consistente questa pieghetta e avevo pestato il vomito dei gatti a modo di zerbino che mi accoglieva avevo sparso vomito di gatti ovunque nonché nelle crocs avevo messo vomito di gatti vi rendete conto della quantità di Madonne? ma è per quello che vi dico attenzione attenzione non riuscirete mai a censire le Madonne siamo dei produttori di Madonne questo questo è vero questo è vero però se noi da filo scientifici da personcine così rifiutiamo il classico argomento che taglia corto e che dice ma l'uomo non è altro che un produttore di Madonne non potrà che produrre Madonne e no che cazzo porca puttana è vero che non possiamo fare altro che produrre linguaggio e il rapporto del linguaggio con la realtà sarà sempre un po' sarà sempre mediato e bla 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 ma questo non significa che questo non però questo argomento questo io spero non significhi che siamo costretti alla disonestà perché se siamo costretti in fin dei conti alla fine della fiera a scambiarci a scambiarci favole se siamo costretti a fare questo allora ha ragione il problema è che se non facciamo altro che spararci favole ha ragione chi la spara più grossa e fu così che aveva ragione chi la sparava più grossa in ogni caso l'epoca d'oro dei fandom eh io credo il contrario vedi video sull'esistenza di Dio cioè per me quella è la disonestà intellettuale poi che uno lo sia perché è stronzo e che uno lo sia perché non non ci ha mai pensato su vabbè pollage l'epoca d'oro dei fandom ma a proposito in realtà secondo me è anche abbastanza sì sì molto scalza quello che dice è molto vero e il punto il discorso è sempre lo stesso esiste esiste la possibilità di essere onesti attraverso un linguaggio che per sua natura non è altro che uno strumento imperfetto filtrato da sensi imperfetti di pertinentizzazione di quello che ci sembra di vedere e abbiamo spesso fallace idea di capire esiste una possibilità per l'onestà onestà non con l'h ok penso di sì tutto sommato penso di sì penso che comunque ci si possa approssimare di più piuttosto che di meno e che ogni volta che riconosce un idolo gli devi tagliare la testa e se ne nascerà un altro come le teste dell'idra è possibile vediamo l'epoca d'oro dei fandom sono le comunità di appassionati appassionato e fan attico appassionato è una parola lo vedremo vedremo questo articolo che cosa che cosa ci dirà appassionato è una parola che già ci può mettere in difficoltà perché appassionato da un lato è una persona non so sono appassionato di Star Trek come questa persona credo direi che vediamo qui sono appassionato di Star Trek che cosa significa mi piace Star Trek a prescindere mi piace tutto ciò che riguarda Star Trek difendo Star Trek su internet sono un difensore d'ufficio di Star Trek su internet a tempo persa oppure generalmente i prodotti del brand del franchise Star Trek mi sono di solito piaciuti ma riconosco criticamente che Star Trek ovviamente è solo Star Trek avrà dei limiti e è logico che non tutte le ciambelle sono riuscite col buco quindi appassionato è una parola che può davvero spaziare molto fan è già qualche cosa di diverso d'altra parte noi potremmo domandarci una cosa sempre facendo un po' gli avvocati del diavolo e prima di leggere questo articolo senza avere nulla prendiamo sto tizio che non so poi se stia citando solo Star Trek o anche altre opere non so se Star Trek abbia una puntata con tizi con le antenne con la pelle blu non ne ho la più palida idea non ho mai visto Star Trek in vita mia solo un film orrendo di quelli recenti e che cosa volevo dire questo ti che cosa ti porta senza voler dire ah è un coglione ma perché ma non lo è assolutamente che cosa ti porta a vestire i paramenti di Star Trek è possibile grazie a chi è allora grazie del Prime facciamo un po' di domande stronze è possibile ma certamente sì perché ne ho conosciuti anch'io è certamente possibile quindi ma almeno nella mia esperienza che una persona che arriva a vestire i paramenti della sua opera preferita sia comunque e i percritica nei confronti di essa anzi sarà proprio diciamo il Trekker più duro e puro sarà quello che più di ogni altro ti smonterà quelle opere del franchise che hanno fatto incazzare i fan ma l'incazzatura dei fan è un'incazzatura critica o è un'incazzatura di non è stata rispettata la lettera alla quale mi ero votato ok questa è una cosa che può essere più interessante e magari lì potrai distinguere tra appassionato e fan ok però io nel discorso dei fan non so neanche se la userei la parola appassionato comunque sì ma anche perché voglio dire secondo me una persona indipendente da un punto di vista del pensiero come potremmo definire una persona indipendente che pensa con la sua testa non è certo una persona che ha ragione o cose del genere è una persona che è appassionata di ciò che riconosce come qualitativo quindi perché essere appassionato di una cosa piuttosto che di un'altra cioè voglio dire questa persona è appassionata di Star Trek e siccome io immagino che ci siano puntate o serie meravigliose di Star Trek bellissime però credo che anche questa persona riconoscerebbe il fatto che di tutto lo scibile umano che è stato prodotto esistano anche altri prodotti altrettanto qualitativi se non migliori allora per quale motivo dovresti essere appassionato in questo caso è un fan di Star Trek dovresti essere appassionato della qualità delle cose che filtro tuo personale quindi saranno le tue e non le sue ti hanno preso ti hanno gasato comunque andiamo avanti nel dicembre del 1893 la rivista inglese The Strand Pubblicò un racconto di Arthur Conan Doyle si intitolava The Final Problem e nelle intenzioni dell'autore doveva essere l'ultima storia con protagonista il celebre investigatore Sherlock Holmes benché il personaggio lo avesse reso molto famoso molto in fretta Conan Doyle voleva cominciare a scrivere di temi più seri e sentiva che uccidere Sherlock fosse scusate l'unico modo per liberarsene indovinate indovinate che cosa successe abbiamo già capito l'abbiamo già capito frusciante guarda Jacopo ce lo andiamo a vedere frusciante sui fan oggi purtroppo non riesco ma sono veramente pessimo la reazione del pubblico alla morte improvvisa del detective fu senza precedenti secondo alcune ricostruzioni storiche tantissime persone si aggirarono per le strade di Londra con un fazzoletto nero legato al braccio o al cappello nei giorni dopo la pubblicazione in segno di lutto secondo un articolo voglio dire una cosa io adesso rido perché mi fa sorridere anche per i nostri discorsi pregressi ma in realtà la trovo una cosa simpaticissima cioè se fossi stato un lettore appassionato di Sherlock Holmes l'avrei fatto anche io ma per farmi due risate mica per costringere nessuno a fare qualcosa ma la trovo anche una cosa carina secondo un articolo della BBC The Strand sopravvisse a malapena al gran numero di cancellazioni degli abbonamenti nacquero club dedicati alla scrittura di racconti intesi non per la pubblicazione ma per la condivisione reciproca di una passione che avessero Holmes come protagonista quindi queste sono già e lui sicuramente ne sta per parlare sono le fanfiction quindi in altre parole c'era una tale affezione per il personaggio Sherlock Holmes da non riuscire ad accettarne la scomparsa mi viene da dire diverso sarebbe stato se fosse fisicamente morto Arthur Conan Doyle forse l'avrebbero accettato di più scelta dell'autore l'autore è già considerato dal fan spossessato dalla proprietà della sua opera in realtà una sua proprietà intellettuale e quindi lo si vuole far continuare a vivere è naturalmente è pensabile che questo l'idea di scrivere delle fanfiction possa e come esserci dopo la morte del singolo autore ma magari questa grandissima questo rifiuto è rafforzato dal fatto che tu sai che l'autore è vivo ma è stato ucciso il personaggio a Lucas variati anni fa fu inscenato il funerale di Rao di Kenshiro con il doppiatore recente che celebrava e lo commemorava e quindi che cosa che cosa volevo dire sì queste persone che indossarono a lutto e fecero nascere le forse prime fanfiction e si incazzarono e si disiscrissero erano disiscritto questi sono i primi disiscritto si erano innamorate del personaggio devo dirlo tra virgolette non capendo che il personaggio è fa innamorare soltanto se è ben scritto ok vi ricordate il discorso su come si chiama acide le cose quando non le pensi per dei mesi come si chiama la tipa bonazza adulta di Evangelion scusatemi Misato Misato vi ricordate il discorso di Misato incinta per cui Sabaku era commosso per il solo fatto che si accenna che Misato aveva avuto un figlio una cosa del genere o era incinta non mi ricordo ma che Misato aspetti un bambino o abbia avuto un figlio o non mi ricordo è commovente se questa scena verrà resa ho raccontato in modo molto commovente non è commovente solo se mi viene accennato di passaggio Misato non esiste io mica sono affezionato a Misato sono affezionato eventualmente a come Misato mi è stata raccontata e quindi in realtà quello che amo non è Misato o Shinji o Asuka quello che amo io è l'autore ma non l'autore la persona è l'opera è la capacità che lui ha dimostrato scrivendo l'opera in altre parole io il segno di lutto lo dovrei mettere se muore Conan Doyle non se muore Sherlock Holmes perché alla morte di Sherlock Holmes uno potrebbe dire ma sì ma Conan Doyle continua a scrivere se ti piace Conan Doyle ora io ho letto quello di Sherlock Holmes sono gradevoli non da innamorarsi di Conan Doyle secondo me comunque se ti è piaciuto Sherlock Holmes perché ti piace come scrive Conan Doyle magari Conan Doyle non farà più quel genere di letteratura ok quindi quindi mi mi colpisce perché qui tu ti rendi conto che Sherlock Holmes ancora oggi così celebrato e comunque gradevole lettura per ragazzi in realtà che pubblico aveva aveva un pubblico che si appassionava del personaggio come se il personaggio non appartenesse alla penna dell'autore e questo è un livello di lettura inconsapevole è un lettore inconsapevole è un lettore che non riesce ad uscire in qualche modo dalla sospensione dell'incredulità pur sapendo benissimo che Sherlock Holmes non esiste in realtà per lui è come se esistesse e questi comportamenti lo dimostrano la pretesa poi che l'autore continui a lavorare su quel personaggio è illiberale potremmo dire è dittatoriale nei suoi confronti mentre ovviamente è perfettamente legittimo disdire un abbonamento ok ma secondo me affezionarsi a un personaggio non è una cosa normale nel senso che tanti lo fanno eccetera ma come posso dire ti affezioni al personaggio all'interno dell'opera cioè io leggo che cavolo ne so Rocky Joe visto che qualcuno lì ha citato Rocky Joe è logico che io leggo Rocky Joe e mi affeziono a Rocky Joe questo è chiaro se è una sospensione dell'incredulità all'interno di un racconto mi affeziono al personaggio però cioè non è che poi vado dall'autore che non mi ricordo come si chiama l'autore di Rocky Joe a dire la stessa cosa che si poteva dire Conan Doyle in questo caso quindi capite questo anche perché adesso io non so come fu orchestrata messa a romanzo la morte di Sherlock Holmes magari male che cavolo ne so io però ci sono personaggi che muoiono ok e che muoiono bene nel senso che non che la loro è una bella morte o un'eutanasia no ma nel senso che la loro morte è meravigliosa è una grande storia è appassionante e affascinante ma cosa ne vuoi risuscitare? se tu risusciti un personaggio che ha avuto narrativamente una bella morte tu distruggi una narrazione sì ma certo ma io sono d'accordissimo con quello che dici ma è quello che ho cercato di dire adesso cioè tu ti appassioni al personaggio all'interno della sua narrazione ma come posso dire Sherlock Holmes non esiste e la sua sorte all'interno del racconto ti ha appassionato perché non l'hai scritta tu non per il fatto stesso che non l'hai scritta tu ma perché hai apprezzato la scrittura del suo autore e l'autore di un'opera d'arte poi qui siamo secondo me più un lavoro commerciale Sherlock Holmes comunque l'autore di un'opera in ogni caso può essere o meno interessante ma è indipendente nella sua creatività poi qua la scelta fatta sarà diversa immagino poi magari è stata una morte fatta con il culo non sto mica dicendo di no sul discorso del certo 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 Jacopo molti personaggi di recente qualcuno mi ha scritto molti mi avete scritto per i fumetti Marvel vi ringrazio qualcuno mi ha scritto sui personaggi dei fumetti Marvel dicendo che alla fine diventano delle maschere come quelle della commedia dell'art il che è assolutamente vero può avere lo Sherlock Holmes di Conan Doyle può avere lo Sherlock Holmes di Tiz lo Sherlock Holmes di Caio lì è solo una questione in realtà di diritti o quando non ci sono più i diritti ognuno poi con questi personaggi fa quello che vuole tant'è che non sta scritto da nessuna parte che una fanfiction non sia migliore dei test originali non è cioè se io scrivo se io scrivo la fanfiction di Sherlock Holmes ma sono un autore superiore a Conan Doyle beh la mia fanfiction potrebbe essere il miglior il miglior episodio di Sherlock Holmes che sia mai stato scritto cioè perché no assolutamente ma il desiderio di vedere come posso dire il desiderio che Sherlock Holmes continui a vivere in realtà secondo me si realizza in modo sano se io decido a messo che io possa farlo ok se io decido di narrare le nuove avventure di Sherlock Holmes allora dico sai che c'è e mo te lo faccio vedere io mo lo faccio io Sherlock Holmes ok è meno sano se io dico a te no adesso me lo fai tornare in vita perché lui morto io non lo voglio voglio leggere ancora le storie di Sherlock Holmes questo cioè boh ognuno faccia quello che vuole esatto esatto ma infatti pensavo proprio ai personaggi come Spider-Man esattamente esattamente dove la stessa storia magari viene raccontata tantissime altre volte tra l'altro ah no ve l'ho già detto che leggeva in rent certo uno può dire opera apocrifa in realtà tra l'altro la terminologia fanfiction è un pochino riduttiva nel senso che se io scrivo la fanfiction di Evangelion o che non so io o di Sherlock Holmes ma perché deve essere fanfiction è è più bello dire opera è più bello perché fanfiction ti dà già quella sensazione di io sono il fanatico e quindi magari è una parola che rischia di essere negativa percepita negativamente perché hai la sensazione che la fanfiction sia interessante solo e perché spesso è così solo perché c'è il personaggio X è il discorso per cui io e si vede in tantissime opere a proposito di fumetti Marvel illegibili dove ci sono tutti quei crossover in cui ci sono 100 personaggi insieme non c'è modo di approfondirne nessuno ed è figo solo perché Spider-Man stringe la mano a Catwoman no non è possibile diciamo un crossover totale in cui stringe la mano Catwoman oppure perché Miss Marvel scopa Capitano America scusate sto dicendo cose a caso però ho capito quelle cose che sono fighe solo perché c'è quel personaggio che fa una cosa ma la cosa in sé non è narrata bene non c'è niente di interessante quello è proprio il grado zero della fanfiction è figo solo perché c'è il personaggio in realtà un personaggio può essere utilizzato da un altro autore se è lecito farlo per fare cose meravigliose però come al solito mi accontento della presenza di Sherlock Holmes in questo caso la fanfiction di Sherlock Holmes è bella perché c'è Sherlock Holmes oppure sarà bella quando qualcuno la scrive a livelli di Conan Doyle o anche meglio di lui soliti discorsi solito discorso Alien vs Predator esatto che ne so facciamo mi ricordo una volta c'era il cartone animato in cui c'erano Goku Ichigo di Bleach tipo c'era anche quello di One Piece tutti insieme tipo ma era bruttissimo però ad alcuni fan piaceva da morire perché cazzo solo Goku e il tizio insieme ok se me lo racconti bene può anche essere una fia non c'è niente di male a prescindere potrebbe essere bellissimo però la cosa figa è solo il fatto che ci sono come dire Misato ha avuto un figlio devo piangere raccontamela bene potrei anche piangere non è da escludere che il fatto che Misato abbia avuto un figlio possa commuovere ma in sé se non c'è la messa cioè alla fine nelle opere d'arte nelle opere creative conta solo il come quindi dipende da come me lo racconti solito discorso Torico Torico esatto era Torico lo giuro lo giuro è bravissimi 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 bravi 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 esatto Astech esattamente quindi Nacuro Club dedicati alla scrittura e insomma le persone da come questo sì sì Enten assolutamente sì 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 sono d'accordissimo sono d'accordissimo con quello che hai scritto le persone quasi almeno da come ce lo sta raccontando questo articolo quasi in una sorta di lutto voglio dire segno di lutto eccetera eccetera non riuscirono ad accettare la morte del personaggio e non riuscirono quindi ad elaborare questo lutto ma capite che c'è qualcosa che non va secondo me a livello di comprensione dell'opera o per meglio dire di che cos'è un'opera in questo caso romanzo o racconti romanzi con Andoli ricevette moltissime lettere di sdegno ma anche offerte monetarie sempre più consistenti in cambio di nuovi racconti che avessero Sherlock Holmes come protagonista alla fine nel 1903 quindi era l'ottocento dieci anni dico bene esatto dieci anni cedette alle pressioni e pubblicò l'avventura della casa vuota in cui raccontava che Holmes aveva soltanto finto la propria morte in totale avrebbe scritto quattro romanzi e cinquantasei storie sul geniale investigatore l'ultima do per scontato post mortem diciamo così l'ultima delle quali nel 1927 anche qui noi oggi potremmo dire grazie il re desiderio e grazie mille del prime anche qui noi potremmo dire che c'erano tanti cioè l'avventura della casa vuota poteva semplicemente fare un prequel poteva esserci un universo parallelo in cui c'erano Sherlock Holmes magari anche Frankenstein insieme eccetera non si è scritto da una sua parte che poi questi non fossero meglio dei precedenti vedi di Akeano le minacce di morte per il finale originale bellissimo della serie di Eva assolutamente sì assolutamente sì non canonico assolutamente sì ma qui è un pubblico mi dispiace dirlo ma molto analfabeta da un punto di vista di comprensione della storia dell'arte banalmente è il fatto che tu non sei l'autore dell'opera a renderti l'opera interessante ok e quindi più l'autore è libero di sorprenderti ed eventualmente di deluderti meglio è pensare di appropriarsi delle opere come fanno nella catena di montaggio dei manga dove le quantità di pagine dedicate ai vari personaggi dipende dal grado di gradimento eccetera è qualche cosa che trasforma l'opera in una mera operazione commerciale poi l'aspetto commerciale c'è sempre ma non rimane nient'altro a quel punto dobbiamo semplicemente compiacere il pubblico dargli quello che desidera ma allora dovrà sempre comparire quel personaggio quel personaggio quell'altro personaggio dovranno avere una storia d'amore perché il pubblico se lo immagina tu non riesci a capire che è il fatto che l'opera sia altrui che ti può eventualmente colpire proprio perché non è tua questo non significa che tu non sia più bravo eventualmente della persona X sto dicendo semplicemente che è in qualche modo la tua passività non nel senso interazione videoludica o non interazione passività nel senso che l'opera l'ha fatta qualcun altro che ti mette alla mercè di una mente o di più menti se l'opera è fatta da più persone che non sono la tua e se l'opera inizia a rispondere alla tua mente ma allora l'autore hanno ti potrebbe grazie Jay Balgas grazie del Prime allora hanno ti potrebbe dire ma scrivitela tu allora scrivitela tu Sherlock Holmes se la vuoi fare se la deve essere come la vuoi fare tu è il solito discorso e che ci sai uno dice ma lo scrivo io ok sì sì Vinrock assolutamente sì ma lì secondo me vi dico secondo me c'è qualche cosa di molto malato nel rapporto fra Evangelion e parte del suo pubblico nel senso che a me sembra davvero che ci sia una parte consistente del pubblico di Evangelion che è quella fanbase fanatica appunto che l'opera doveva in qualche modo mettere in guardia per certi versi non so mi sembra che qualcosa sia andato storto nella comunicazione di Evangelion e secondo me moltissimo nel rebuild comunque sia magari come il rebuild insegna ti deve solo piovere una popputa top model sulla testa e tutti i problemi si risolvono grande grande storia allora secondo vari esperti di storia e media quello composto dagli appassionati di Sherlock Holmes è il primo esempio storico di fandom di fandom un nome con cui si definiscono quelle sottoculture creative che si sviluppano attorno all'amore comune di un gruppo più o meno nutrito di persone verso un prodotto culturale quindi ok qua lui mi definisce fandom come un gruppo che crea ok quindi non sono non sono semplicemente i fan non avrei non avrei legato fandom necessariamente a creativo se devo dire la verità cioè ci può essere come no ma comunque lui lo lega a creativo ok 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 oggi è impossibile quantificare quanti siano i fandom va bene anche chi se ne frega ne può nascere uno grande o piccolo attorno a qualsiasi film serie tv videogioco fumetto libro gruppo musicale o celebrità anche le persone sono libere quindi nessuno lo impedisce nessuno per fortuna ne esistono di enormi attorno a prodotti mainstream come harry potter game of thrones star wars i film marvel e gruppi pop coreani gruppi pop coreani come bts ma altri ne sono nati quindi ora qua in realtà questo elenco è interessantissimo questo elenco è interessantissimo nel senso che tu qua mi hai citato i classici harry potter game of thrones star wars eccetera e marvel cinematic universe ma questo è un gruppo è un gruppo musicale bts il fatto che un gruppo musicale venga accomunato ma perché state pur sicuri che è accomunato anche dal componente creativa dei fan ad altre opere che sono semplicemente opere anche se poi gli attori eccetera eccetera vengono idolatrati e quant'altro ti fa capire come il mondo dell'intrattenimento ma potrebbe starci dentro lo sport allo stesso modo potrebbe starci lebron james allo stesso modo o i lakers ti fa capire come perché si usa il termine ombrello di intrattenimento perché in realtà sotto questo ombrello ci stanno cose che hanno qualche cosa in comune cioè gli impresari che creano i bts gli impresari che curano la comunicazione di grandi campioni o naturalmente la comunicazione di grandi opere eccetera fanno lavori molto simili ok al di là dell'aspetto musicale questa band è un è un racconto è un racconto che viene viene arricchito per i fan ma questo non è soltanto adesso ma vi ricordate all'epoca delle riviste per ragazze i vari i vari i vari cioè o quelle robe lì no come si chiamava era cioè come si chiamava la rivista delle ragazzine alle medie di un bel po' di anni fa cioè non era cioè ce n'era anche un'altra non mi ricordo top girl top girl ma che cazzo avete tirato fuori c'era anche top girl c'era anche top girl sì sì esistono ancora esistono ancora che servono di fatto servono di fatto per dare ai fan degli elementi di lore in realtà danno ai fan degli elementi per fantasticare perché il fan infatti è quello che si appassiona alla biografia dell'autore cioè non mi interessa Evangelion ma voglio sapere come cazzo ha vissuto idea che hanno nella sua vita ma chi se ne frega no perché così tu sostituisci la comprensione dell'opera con la curiosità morbosa su tutti quegli elementi che cerchi di ritrovare nell'opera stessa e di cui ti appassioni la conoscenza della biografia dell'autore è una sostituzione iperaccessibile dello studio dell'arte capite è qualcosa alla portata di tutti cioè fare il gossip sulla vita di idea che hanno è qualcosa che chiunque può fare evidentemente non tutti hanno invece gli strumenti critici per dire al di là di quello che lui volesse significare parti narrate meglio parti narrate peggio perché si entra nello scodinzolare da fan per cui ho appreso questa cosa qui quella macchinetta del caffè quella che lui aveva nelle scuole medie ora si tu non lo sai e non puoi parlare classico comunque sia interessante siano anche dei musicisti qui ma altri ne sono nati attorno a prodotti molto più di nicchia o addirittura mai esistiti questa è una cosa che vorrei capire questo molto borghessiano un capolavoro di Martin Scorsese che non esista davvero ho capito vabbè allora si potrebbe parlare di Dune la sua storia Dune cinematografico quello che non è mai stato avete capito se ai tempi di Arthur Conan Doyle l'unico modo per condividere la propria passione con altri fan era riunirsi fisicamente in un club o mandarsi lettere figata da quando esiste il web alcuni fandom sono diventati dei fenomeni enormi e piuttosto potenti si potrebbe dire pieni di persone che non si conoscono non si vedranno mai di persona un po' triste capaci di cambiare le sorti del libro della band o del film attorno a cui sono nati esattamente come è successo con Sherlock Holmes e di muovere tantissimi soldi e quello è il punto il punto fondamento uno dei lo trovo molto importante intorno a questa a questa discussione abbiamo detto fan fandom definizione potremmo usare un altro termine si sembra così una cosa del genere dominio dei fan quindi è un po' il posto dove si ritrovano eh sì lo dicevamo prima Vinrock sembra proprio così comunque mi sembra che alcuni aspetti li stia mettendo in luce il fatto che questi fan che cosa sono alla fine della fiera il loro potere che cosa sembra sembra sembrano in una condizione di forza sembrano in una posizione di forza possono addirittura influenzare i loro autori e farsi scrivere quello che vogliono loro in questo modo in realtà hanno svilito l'opera e l'hanno resa estremamente poco interessante perché è soltanto appunto un prodotto commerciale perché è soltanto il denaro a muovere questo adattamento l'autore dirà sì ai fan per questioni economiche ma allora che cosa sono i fan non sono altro che dei clienti noi stiamo parlando di clienti stiamo parlando di una vendita e di clienti possiamo aggiungere qualche cosa di più all'opera potremmo se non fosse che china la testa naturalmente può rimanere una qualità eccetera ma queste persone sono fiere di essere clienti e come clienti il cliente vuole essere trattato e rispettato come il cliente che ha sempre ragione cioè dicono io non solo pago perché magari queste opere costano poco o nulla o pago il merchandise allora lì si può spendere di più ma non solo pago con il denaro ma io ho fatto un investimento emozionale mi sono innamorato e quindi tu ora devi restituire e questa è una fidelizzazione che fa parte della vendita e adesso non per menarla ma solo ve lo indico ma lo sapete già c'è un post ma ce l'ho fatto anche il video non mi ricordo qual era ma sì era quello del popolo del popolino ma è sempre quello è sempre quello qui c'è anche il video recuperato e di quello si parla qui c'è l'orgoglio e la rivendicazione esatto c'è l'orgoglio e la rivendicazione del cliente ma l'autore diventa diventa letteralmente un venditore se non chi lavora per lui se io come autore è impossibile pensare di scrivere un'opera per nessuno hai sempre un'idea di pubblico un pubblico ideale magari un pubblico piccolo grande ma se io inizio leggevo l'altro giorno a proposito di quel grande sito che è Dago Spia un'intervista a Massimo Boldi le grandi menti che parlava di quei film orrendi che facevano loro e diceva un'intervista non proprio di lucidità come potete immaginare diceva a un certo punto si trattava di azzeccare che cosa vuole il pubblico e se lo dovessimo fare adesso e le nuove vacanze di Natale o quel cazzo che è se lo dovessimo fare adesso sai adesso è più difficile perché il pubblico è cambiato eccetera ma quelle ovviamente sono operazioni che sono interamente commerciali non c'è altra motivazione per fare vacanze di Natale che non sia fare una marea di soldi niente di male nel riuscire a fare una marea di soldi ma sono opere e autori che diranno non è che dicono sì al pubblico letteralmente basano quello che fanno su delle indagini di mercato che poi all'inizio ci possa essere stata una certa intuizione però oggi puoi quantificare tutto molto facilmente ma noi lo vediamo cioè Harry Potter Game of Thrones Star Wars eccetera MCU oggi è tutto così oggi è tutto interamente così chi riesce a fare eccezione le grandi le grandi le Netflix della situazione le grandi piattaforme eccetera che eccezione fanno sulla base di cosa rinnovano non rinnovano è logico è vero che hanno ospitato hanno finanziato opere di valore bla 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 però alla fine l'altra parte cos'è il mitico algoritmo dei social sono un tentativo di venire incontro alla vera pancia delle persone trasformi le persone in pance parlanti in pance deambulanti e sono fiere si incazzano come delle bestie i fan sono cattivi dal momento che il rapporto consumatore produttore ciò che tiene in piedi questo tanto mondo di cosa ci stiamo lamentando la cosa di cui mi lamento personalmente a parte che queste sono dinamiche inevitabili ma la cosa di cui mi lamento è la mancanza di coraggio perché comunque esistono autori che hanno coraggio esistono autori che hanno il coraggio di pur nell'inevitabilità del dovere andare sul mercato di imporsi e uno di questi è un Kojima in ambito videoludico ma al cinema ne puoi trovare ci sono pensa pensa a un Kojima pensa pensa a un Kojima pensa a Metal Gear Solid 2 ci sono persone che cercano tra virgolette diciamo così di fottere il sistema di fronte all'inevitabile compromesso cercano di metterti la polpetta avvelenata rispetto al pubblico che magari non se l'aspetta di qualche cosa che lo mandi giù e ti va di traverso è lì che diventa interessante oppure c'è Clow 2 che poi non è vero devo dire ad onore del vero che anche Dracman in Clow 2 è un'opera di cui ho detto quello che ho detto e che penso ancora però è un'opera che vuole anzi vuole andare di traverso molte persone e come e come no no anzi è un'opera che vuole stare sul cazzo poi naturalmente è un'opera assolutamente mainstream nel senso che va proprio nella direzione in cui è è stra mainstream ma non esisterebbe neanche se non fosse così a quei livelli di budget eccetera ma comunque l'artigiano esattamente esattamente poi sì un Su Aereo un Su da 51 certamente sì alcuni di questi autori finiscono per abbracciare i cavalli altri invece se la ridono dai adesso non è che devi necessariamente abbracciare i cavalli poi i cavalli sono sono belli animali non lo so assalitore il discorso di Avatar perché da quello che leggo recentemente la situazione nelle sale è davvero che a vedere che a vedere i tuoi amici non ci va nessuno a vedere Ostlund o Chiorastani eccetera e i blockbusters vedevo lo pubblicava Derek Thompson che è un tipo molto in gamba su Twitter le statistiche della come vi posso dire i blockbuster cinematografici nel corso degli anni e dei decenni sono sempre di meno quantitativamente incassano sempre tantissimo ma sono meno i blockbuster ok e questo grazie a incontri letterari grazie al Prime di autori interessanti ce ne sono tantissimi perché gli esseri umani sono interessantissimi cioè creano cose interessantissime bellissime hai mai visto i commenti sotto i trailer degli anime tratti dai gacha game quelli si che fanno rabbrividire sono tutti in stile tutti i saldi spesi per i pool sono stati investiti bene Software House X ci ama let's go boys è il discorso della fidelizzazione questa live l'ho intitolata siamo talento caporali non ho ancora capito se andremo a parlare di queste cose qui ma volevo volevo fare il titolo sulla fidelizzazione la cosa la cosa veramente figa della della fidelizzazione figa nel senso che è agghiacciante è che i fidelizzati sono fierissimi di essere fidelizzati ma proprio anche usando questa parola qui ci sono ma guardate anche su YouTube i follower fan dei vari influencer alcuni di questi mi è capitato di vederlo adesso non ho link da darvi mi è capitato di vederlo in passato congratularsi con l'influencer x e y per la sua capacità di fidelizzare ma fidelizzare non è una bella parola cioè è una parola ok ma nel senso non è bello pensare di se stessi di essere stati fidelizzati cioè alla fine il fidelizzato è un fedele tu sei riuscito a a spacciare un un pubblico per un privato un rapporto pubblico per un rapporto privato e sei riuscito a creare una fiducia che è in realtà è una fede una fiducia cieca e il fidelizzato non è altro che il cliente sicuro lo zoccolo duro dei fidelizzati sono i clienti che compreranno sicuramente e dire che figata sono fidelizzato oppure complimenti fai un gran lavoro complimenti fai un gran lavoro di fidelizzazione ci può anche stare se lo dice l'appassionato di marketing grazie Eugenio grazie del prime quindi sia chiaro sempre contestualizzare caso per caso però avete capito cosa voglio dire esatto Federico esattamente 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 uno dice che ti frega frega un cazzo in realtà però per il discorso delle illusioni che dicevamo prima è un pochino un peccato e c'era adesso qualche video fa di PewDiePie non mi ricordo è un video di quelli in giro per il Giappone ah il video che era morto il cane ho guardato il video del cane ogni tanto guardo il vlog di PewDiePie in giro vabbè insomma c'era un tizio o tizia non lo so un commentatore sotto il video di PewDiePie ma a parte c'è la gente che è come se fosse morto il loro cane capisco povero cagnolino ma ci mancherebbe però vabbè che diceva non sai i tuoi video cosa sono per me mi rallegri le giornate sapete quelle cose proprio che c'è le leggi e pensi merda cioè se io fossi PewDiePie penso che mi freghi più un cazzo però una roba del genere pensi porca putta cioè mi dispiace per te cazzarola e quindi nelle giornate buie di questi due anni i tuoi video eccetera eccetera e una persona aveva replicato a questa altra dicendo valuta di più il tuo tempo value more your time una cosa del genere semplicemente che era una una stoccata veramente precisa cioè vedevi questa ma quanto l'avete visto anche in influencer italiani vedevi questa persona che aveva instaurato soltanto presso di sé quindi era un monore questa è la cosa triste della parasocialità perché è soltanto nella tua testa questa cosa l'altro della relazione non sa nulla nemmeno che la relazione esista e questo è inquietante aveva instaurato un rapporto di dipendenza affettiva amorosa con in questo caso i video di PewDiePie su cui sosteneva tantissimo della propria della propria cioè quando vedi queste cose qui ti viene anche hai paura a dire qualcosa infatti il tizio aveva semplicemente detto valuta di più il tuo tempo non aveva detto una cattiveria ma lo capisco perché a un certo punto dici merda cazzo questa persona si regge malapena diciamo psicologicamente malapena in piedi ho proprio paura di toccare perché poi non vorrei fare un disastro da un punto di vista del discorso illusione e disillusione è un grande equivoco perché sei indipendentemente dalla qualità che possa esserci faccio per dire nel video di PewDiePie ma che nell'opera X o nell'opera Y nel momento in cui sei acritico sei solo un cliente il fidelizzato è solo un cliente poi anch'io sono un cliente di Umberto Eco cosa compro il libro di Umberto Eco ma io non sono un cliente nel senso che adopero il mio pensiero critico non sono un fan non me ne frega un cazzo tra l'altro la biografia dell'autore di quelle stronzate lì il mio è un acquisto consapevole naturalmente potrei essere un cretino essere consapevole di stronzate e fare acquisti stupidi questo non ci sono dubbi però questa forma di affezione pensate tra l'altro pensate a livello pensate a livello qualitativo uno dice facile fare muore Umberto Eco anziché Conan Doyle lì era morto Sherlock Holmes muore Sherlock Holmes e i fan scrivono i romanzi di Sherlock Holmes i primi le prime fan fiction pensate pensate i fan di Umberto Eco muore beh che negli ultimi anni non era più il grande Umberto Eco facciamo finta muore Umberto Eco e tu sai ci rimani male la saggistica quella veramente figa di Umberto Eco mi mancherà e quindi bisogna trovarsi e farla noi ci dobbiamo trovare noi dobbiamo scriverlo noi il nuovo canter l'ornitorico buona fortuna è molto più facile fare la prossima storia di Sherlock Holmes ma infatti sono tipologie di prodotti che difficilmente generano fan perché capite comunque diventi un saggista mi giravano talmente le palle che Umberto Eco non scrive più saggi che sono diventato un grandissimo saggista un romanzo con Frate Guglielmo esattamente esattamente Frate Guglielmo ritorno a Baskerville il nome della Rosa 2 Baskerville poi vabbè siamo sempre con Sherlock Holmes se ai tempi di Arthur Conan Doyle l'unico modo per condividere la propria passione con altri fan era riunirsi fisicamente in un club mi sa che l'abbiamo già letta questa cosa e tantissimi soldi ok e questo è il gruppo di fan della serie tv Sherlock a Londra nel 2018 le origini del fenomeno di fandom si è cominciato a parlare come di un movimento strutturato e organizzato nel diciannovesimo secolo per riferirsi agli appassionati di particolari hobby soprattutto sport come la box quindi in realtà fandom sono i fan non è il luogo dove i fan fanneggiano vabbò io vado e vado avanti sport come la vedete il discorso sportivo era la riga dopo racconta Leonora Benecchi ricercatrice che si occupa di fandom per l'università della Svizzera italiana attenzione sono stato non nella Svizzera italiana a lungo è stato usato per descrivere una pratica culturale molto maschile i fan super entusiasti che hanno comportamenti sopra le righe diversi da quelli del resto del pubblico posso dire che posso dire che comportamenti sopra le righe è un io capisco che cosa intende vabbè ci siamo capiti però di per sé comportamenti spesso al limite però c'è chi se ne uno può andare sopra le righe e non essere un fan questo è ovvio ma vabbè non c'era bisogno di dirlo diversi da quelli del resto del pubblico cioè se io dovesse basarmi su queste due righe non dovrei non è giusto farlo però in realtà boccio il fandom per un criterio di conformismo cioè allora fanno bene a non essere dei conformisti ma non è così anzi se c'è un conformismo è quello ma andiamo avanti fin da subito ha un'accezione istintivamente negativa sia perché designa ma qui sport quindi tifosi ultras eccetera fin da subito ha un'accezione perché designa comportamenti spesso al limite sia perché viene considerata dall'esterno di cattivo gusto o troppo lontana dal comportamento normato vedete c'è consapevolezza di quello che dicevo oggi però andare a tutte le partite del Milan comprare le maglie aspettare i giocatori fuori dello stadio via dicendo è considerato socialmente accettabile mentre i fan di altri prodotti culturali sono ancora caratterizzati come individui solitari e ossessivi è interessante poi socialmente accettabile bisogna vedere dove e per chi perché magari uno che va addirittura ad aspettare i giocatori fuori dallo stadio sarà socialmente accettabile da una parte ma forse non dall'altra ed è certamente sì che individui solitari e ossessivi possa essere fattualmente vero per magari i fandom che sono tutti internetiani comunque bene abbiamo capito ok al di fuori dello sport di Sherlock Holmes i primi fandom si svilupparono attorno ad artisti e gruppi musicali un esempio celebre è quello delle fan dei Beatles a lungo accusate di essere isteriche e ossessive e alla letteratura fantasy e fantascientifica se vi ricordate adesso non voglio andare su youtube ma il video che feci sui fan misi in copertina e qualcuno mi criticò per quello delle fan urlanti ma in realtà è proprio quello già negli anni 30 soprattutto negli Stati Uniti nacquero vari club e convention ovvero eventi spesso organizzati dal basso che permettevano a fan provenienti da varie parti del mondo di incontrarsi in un solo luogo per discutere del tema che li accomunava e fare amicizia ora queste sono tante cose diverse nel senso che l'organizzazione di una convention prima di tutto è un bel business quindi bravo chi lo organizza perché ha capito benissimo come gira il mondo secondariamente trovarsi a discutere di quello che ti accomuna in un'epoca pre-internettiana why not cioè in sé è anche una figata ma secondo me è molto interessante il discorso del fare amicizia ripeto per me non è molto scivoloso pensare che sia giusto circondarsi di persone soprattutto con gli stessi gusti è molto ingannevole pensare che una persona che ha i tuoi stessi gusti sia una persona che allora è bene avere come amica secondo me lì tra i fan e lo vedo anche oggi nella selezione degli influencer che fanno le persone di solito si cerca di seguire quelli a cui piacciono le stesse cose che piacciono a te che è veramente a parte di un conformismo allucinante ma credo che sia molto interessante seguire le persone che esprimono un pensiero proprio indipendentemente da che letteralmente indipendentemente da che cosa pensano questo secondo me non è tanto un bias di conferma di per sé ma è proprio l'idea che nei gusti di qualcuno ci sia la personalità anch'io ci sono passato da questa cosa anche a te piacciono i queen e che cavolo ne so Kubrick allora sei un grande no non ci sono le caratteristiche di una persona nei suoi gusti anche se magari sono gusti che si condividono quindi discorso dell'amicizia che è una parola molto importante naturalmente non la baserei così anche se sicuramente avere un bel una bella ancora di conversazioni può essere allora sì un bel modo per far nascere un'amicizia questo lo capisco benissimo discorso ancora più peso quando l'amicizia e l'amore perché molto e qui ci spostiamo ai discorsi di prima molto spesso essere fan di qualche cosa vedi la convention del caso vuol dire accedere a ritrovi riunioni manifestazioni fiere ritrovi riunioni manifestazioni fiere si fa amicizia ma si cerca magari anche di andare a bersaglio e la cosa che ricordo aneddotica che vi regalo in parasocialità ma che ho già raccontato ma riracconto quando andai in un brevissimo periodo che ero singolo andai a fare tra una fidanzata e un'altra fui singolo per un periodo andai a fare un corso di giapponese andai a fare un corso di giapponese e mi ricordo che ho fatto per sei mesi mi ricordo quasi niente mi ricordo che eravamo una classe di 7x7 8 persone una cosa del genere ed eravamo tutti maschi e ci guardavamo intorno con un palese proprio evidente senso di delusione e amarezza ma come per imparare il giapponese c'è mica bisogno e mi ricordo che l'insegnante ci disse ragazzi ma non è mai successa sono tutte femmine a farsi la cosa quindi non è mai successa una cosa del genere una classe tutti maschi noi eravamo alle bestemmie e lì anche lì ci fu una moltiplicazione delle madonne questo per capire il discorso che facevamo prima sulle madonne comunque sia e FUBUS e andiamo avanti dobbiamo fare amicizia se i club e le convention sono stati a lungo minchia ma io quanto ci metti ma ragazzi sta live siamo a mezz'ora dalla fine se i club e le convention sono stati a lungo live di due ore si riesce a metterci dentro meno roba anche perché abbiamo iniziato tardissimo a leggere l'articolo comunque la moltiplicazione delle madonne è assolutamente un miracolo e se i club le convention sono stati a lungo spazi dominati prevalentemente da uomini impegnati a dimostrare la propria passione attraverso il collezionismo o la discussione critica delle opere su critica non stiamo ad aprire di nuovo le donne hanno storicamente partecipato ai fandom soprattutto tramite la produzione letteraria ovvero producendo scrivendo illustrando le cosiddette fanzine piccole riviste fatte in casa dedicate a prodotti culturali creati e commercializzati da qualcun altro naturalmente questo soprattutto in un'epoca lì era anteguerra ci parla di una condizione femminile più casalinga e quindi rispecchia anche la condizione della donna ci può stare come annotazione assolutamente nel 1986 l'autrice Camille Bacon Smith scriveva su New York Times che fin dagli anni settanta quindi comunque altro che anteguerra le fanzine dedicate a Star Trek la serie fantascientifica perché dico questo perché non vorrei che ne uscisse la naturale predisposizione dell'uomo la naturale predisposizione della donna e la donna è più romanziera e l'altro è più più cazzeggioso tutti insieme è in realtà uno specchio della società comunque andiamo avanti fin dagli anni settanta le fanzine dedicate a Star Trek che poi in realtà quel famoso articolo che avevamo letto insomma natura e cultura dei comportamenti centomila parentesi fate conto che le abbiamo aperte e chiuse tutte la serie fantascientifica attorno a cui si è sviluppato uno dei fandom più vivaci del secolo scorso che venne addirittura salvata dalla cancellazione dall'invio massiccio di lettere alla società televisiva che la produceva erano scritte illustrate e composte al 90% da donne e qui vediamo Spock e il capitano Kirk che sembrano sul punto di amoreggiare anche qui quindi attenzione ma ovunque ovunque Spock e il capitano Kirk che si scambiano sostanze sembra essere di gran voga tra le scrittrici di fanfiction su Star Trek cosa si fa nei fandom? la ship definitiva si scambiano anche la spaceship esattamente cosa si fa nei fandom? al contrario di chi si limita ad apprezzare un film una serie tv o un libro chi appartiene a una comunità di fan spesso vi contribuisce in modo creativo e partecipato c'è chi lo è divertentone comunque ti passi il tempo conosci gente siamo esseri umani non c'è mica niente di male c'è chi lo fa traduce delle cose sbagliate magari ne abbiamo anche già parlato ma poi che figata è tu ti vai nel fandom del trono di spade e sono tutti infogliati col trono di spade ma poi saranno infogliati col trono di spade ma a un certo punto si parlerà anche d'altro mangerai una pizza ti farai mille gag e magari trovi anche la donna o l'uomo con cui conquistare chi lo fa traducendo e pubblicando i sottotitoli di ogni nuova puntata della serie animata giapponese che ama evitando agli altri di dover aspettare per mesi il doppiaggio ufficiale c'è chi fa cosplay ovvero indossa e spesso crea personalmente i vestiti dei personaggi delle proprie storie preferite c'è chi gira e qui io sul cosplay divertentone ognuno fa quel cazzo sul cosplay sul cosplay c'è una cosa da dire vorrei dire una cosa ma non sul cosplay in generale che veramente se uno si diverte ma anzi c'è gente che è bravissima fa delle robe fantastiche però c'è una cosa che vorrei dire sul cosplay che è certo che è un lavoro come è un lavoro molto professionale si raggiungono dei livelli estremamente professionali ma bisogna fare attenzione si imitano e si replicano modelli altrettanto professionali qual è il problema del replicare modelli altrettanto professionali che spesso sono modelli anche genetici professionali di chi magari ha dato per primo i propri panni al personaggio X o al personaggio Y quindi salvo casi di pari bonazzità tra il modello e la replica diciamo così e salvo casi di cosa volutamente ironica una cosa di cui può soffrire il cosplay a mio avviso è a volte una certa mancata comprensione che il modello è il solito campione genetico lewoodiano quindi una cosa del cosplay è che secondo me a volte nella magari grandissima capacità tecnica ci sono cosplayer che si danno all'imitazione di modelli che non non ricalcano da un punto di vista delle caratteristiche letteralmente anatomiche e a volte non è un discorso voluto questo volevo dire insomma fare il cosplay di Wonder Woman dell'ultima Wonder Woman della DC il film no? ok? è impegnativo da un punto di vista genetico ok? c'è poco è dura è dura poi tu vedi Meloppius vedi Meloppius tu puoi fare il cosplay di Asuka io potrei mettere la faccina VTuber di Asuka è possibile però avresti forse perché non ti conosco avresti oddio non ti conosco Meloppius tu eri a Bologna quando siamo beccati avresti comunque delle fattezze diverse e probabilmente avresti intrinsecamente una aggiungere esatto esattamente c'eri aggiungeresti una componente ironica alla cosa ecco per così dire rispetto a Conan Doyle la novità starebbe nell'integrazione nel processo produttivo dell'opera l'opinione del potenziale si parla di età della convergenza di transmedia storytelling tra gli effetti ne segue che la nuova grande serie prima ancora di uscire ha già pagine social che sollecitano l'interazione anche per accogliere informazioni che potranno essere utili per la definizione della serie stessa in un certo senso mettendo in crisi lo stesso concetto di autore sono d'accordo Tsuji e anche il discorso del mondo dei manga è molto simile a questo mette in crisi il concetto di autore ma più che altro è una cosa diversa è intrattenimento commerciale è intrattenimento commerciale multi autore per certi versi che ha il suo che implementa al suo interno quella che è a tutti gli effetti un'indagine di mercato basta capirsi su che cos'è non c'è niente di male ma il problema è poi che cos'è per chi per chi ci si appassiona perché poi è il solito discorso del recinto dove One Piece è Shakespeare e dove Harry Potter è Dostoievski capito è il solito non sono body positivo lo dico perché no no non voglio insomma ho cercato di essere il più politically correct possibile nel dirlo a Mr. Slowend se non esageri puoi esprimerti non essere cattivo insomma dai e vado avanti ok ok il cosplay c'è chi gira e pubblica video di ore ed ore in cui individua i temi ricorrenti nei romanzi del suo autore preferito compara nei minimi dettagli le differenze tra il personaggio di un fumetto e come quel personaggio è stato trasporto ad adattamento cinematografico o espone le sue teorie sul modo in cui una serie potrebbe finire ovviamente un contenuto critico un contenuto da fan possono essere diversi puoi avere una persona che si fissa su che non so Harry Potter faccio parire però i suoi contenuti sono assolutamente critici non la definirei fan magari lei si definisce fan ma dipende poi dai contenuti che produce ma chi se ne frega ci sono tantissime persone che si dedicano alla fan art ovvero la creazione e condivisione di disegni illustrazioni e dipinti che hanno come oggetto i personaggi del prodotto culturale di cui sono appassionati diverse ma non tutte sono a sfondo romantico o sessuale tra l'altro lo capisco soprattutto per quanto riguarda produzioni come il Marvel Cinematic Universe Gauss ne ho parlato di sfuggita tante volte non lo so cosa ha di bello a parte gli effetti speciali lasciando totalmente la parte Tolkien che è meglio cosa ha di bello quella trilogia è il solito pappone hollywoodiano non ho mai capito a parte le bellissime per la prima volta battaglie campali che poi sono diventate un cliché che non se ne può più però vabbè ho visto tutto al cinema all'epoca avevo anche i VHS incredibile ma proprio la grande bellezza di quei film dove risiede di grazia non proprio mi sfugge completamente e cosa volevo dire merda stavo pensando ah sfondo romantico sessuale Marvel Cinematic Universe come diceva qualcuno online non mi ricordo su che sito nell'MCU ma questo vale anche per tantissimi fumetti Marvel ma non per tutti sono tutti come era sono tutti sexy ma nessuno è arrapato cioè in questo i The Boys soprattutto The Boys versione fumetto sono l'ovvio cioè vecchio hai dei super mega poteri sono tutte delle fregne tutti dei gran fighi ma cazzo normalmente queste persone scoperebbero H24 ma te lo immagini H24 io lo so se fossi lì negli Avengers vivrei letteralmente vivrei in erezione cioè menchia ma stiamo parlando della genetica vogliamo parlare della genetica dei personaggi femminili degli Avengers ma vogliamo parlarne come fa sta gente a non essere arrapata H24 e capisco la produzione spontanea di opere di scopaggi folli tra questi personaggi ma cazzo ma i fumetti ancora di più cioè ci sono certi fumetti ma ve l'ho detto che li ho visti su Marvel Unlimited alcuni ho beccato qualche capolavoro roba così così ho beccato anche dalla monnezza ma dalla monnezza che comunque te la sfogli a un certo punto smetti di leggere i diavi non si reggono però ragazzi mio Dio non c'è un personaggio femminile che non sia la top model di Dio cioè delle robe sempre in delle pose puro fanservice cioè raga io boh ma materiale da sé vabbè scusate 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 ma sì ma Riccardo Riccardo Ciccola se noi dobbiamo parlare della rielaborazione del materiale letterario allora uno si incazza con 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 la versione cinematografica perché Gimli Carut è l'altro che fa lo skateboard che fa surf con lo scudo io cito sempre questi due aneddoti ma non sono solo quello cioè sono personaggi che sono stati impoveriti e sviliti rispetto alle versioni letterarie in modo allucinante comunque molto molto banalizzato vabbè comunque chi se ne frega materiale da sera da sera certamente sì certamente sì certamente sì ma infatti io non giudicherei mai quel film sulla base del rapporto con Tolkien per quanto il primo film a me non è dispiaciuto il primo film e non mi è dispiaciuto perché c'è abbastanza del romanzo ma vogliamo dire che sono film lentissimi uno strazio che da addormentarsi che i dialoghi fanno venire il latte alle ginocchia dipi super dipi vogliamo dirlo ma latte alle ginocchia puro ma ragazzi il terzo film io l'ho già raccontato questo aneddoto che al cinema mi stavo addormentando e continuavo ad asciugarmi gli occhi di due stronzi che devono buttare l'anello non ne potevo più volevo spararmi sentirli parlare mi veniva voglia veramente di sparare allo schermo del cinema e io continuavo ad asciugarmi le lacrime dal sonno e le persone di fianco a me pensavo che fossi commosso per la grande impresa ma che cazzo ma che cazzo è quel film quanto è infinitamente brutto quel film mille Oscar capolavoro ma capolavoro di cosa ma mia mamma l'ho vista anche la versione stesa ma me ne son viste quelle robe lì me ne son viste quelle robe lì comunque però così filmoni hollywoodiani cicciosi divertenti ok ma grande cinema dove e tra l'altro di un regista che ha fatto un film che per me è stupendo che è King Kong voi l'avete visto il King Kong di Peter mi confondo sempre Jackson l'allenatore e Jackson il regista lui è Peter Jackson o Steven insomma Jackson l'avete visto Peter Jackson esatto il King Kong lui ha fatto anche un King Kong per me è un capolavoro un capolavoro è bellissimo è sinceramente un film meraviglioso è un ode al cinema un ode al grande intrattenimento cinematografico e un film di un'intelligenza di una consapevolezza proprio del linguaggio cinematografico che mi ha sconvolto è bellissimo ve lo dico di cuore ve lo dico di cuore ed è lunghissimo ed è bellissimo è emozionante è stupendo con Jack Black esattamente sì esattamente sì ma per me è un film che trasuda la sua consapevolezza gioca con il cinema e ti emoziona con i vecchi trucchi del cinema ma comunicandotelo ed è un grande omaggio a King Kong originale bla 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 gli appassionati ci possono trovare tutte le citazioni fantastico ma che film quello per me è veramente grande cinema ve lo giuro un grande grande capolavoro comunque e gli altri non li ho visti gli altri purtroppo non li ho visti quindi non i romanzi è complicato parlare del Signore degli Anelli è molto complicato perché comunque bisognerebbe parlare delle traduzioni e io non sono un grande esperto perché ho letto solo la traduzione storica italiana della tizia che poi era giovanissima quando l'ha fatta e non mi ricordo come si chiama ok nelle da vecchie edizioni Rusconi dove c'era la cura di Quirino principe Quirino 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 eccetera il Signore Alliata bravi ragazzi Vittoria Alliata bravissima in realtà è una traduzione a cui tutti siamo affezionati ma che in realtà è impoverisce molto la ricchezza espressiva dell'inglese originale è stata fatta una come sapete benissimo ci sono i video di Rick esatto come sapete benissimo è stata fatta una nuova traduzione molto contestata sicuramente faticosissima da digerire perché si permette di cambiare tutti i nomi non tenendo conto di quello che è già il retroterra culturale dell'OE secondo me è molto sbagliata come scelta perché non era obbligata è un peccato perché ti fa perdere il riferimento a quella che è già un'opera della cultura che tutti conoscono ma dette tutte queste quindi perché dico questo e poi ci sono molte altre contestazioni sulla nuova traduzione ma ci sono anche in realtà giuste critiche sulla vecchia perché dico questo perché in realtà la versione definitiva definitivamente accettabile diciamo così in italiano del Signore degli Anelli non esiste ancora è questo che è pesissimo a pensarci bene in ogni caso detto questo se devo dire cosa penso io del Signore degli Anelli come opera letteraria che ho adorato ma era il periodo in cui iniziavo a leggere quindi avevo 18-19 anni l'ho anche riletto quasi tu non ho finito di rileggerlo ma recentissimamente l'ho riletto a grandissimi pet tre quarti l'ho riletto ok quello che nella versione dell'Aliata è sempre riletto perché comunque volevo un po' i vecchi feels direttamente su ebook l'ho riletto perché ce li ho in culo a alla libreria ai vecchi libri tutto questo per dire che è un'opera molto didascalica molto raccontare non è uno show don't tell ok è il contrario è un tell don't show per certi versi io non considero il signore degli anelli grande letteratura per quanto ci sia super affezionato per me non è grande letteratura non è un romanzo scritto particolarmente bene e la storia però nel suo significato è molto molto bella molto affascinante lui puirino principe fece un'osservazione intelligentissima perché lui tirò fuori le sue opopera per dire il fascino del signore degli anelli ed è vero perché è una lunga storia di episodi che capitano agli stessi personaggi cui ti affezioni per me è da leggere cioè per me il signore degli anelli è fondamentale leggerlo da da giovani e uno è un perfetto primi romanzi che si leggono è fantastico ti fa viaggiare con la fantasia comunque crea un mondo di sogno bellissimo però per me è un'opera per ragazzi e ripeto questo non è sminuitivo ma è per dire che non ha quelle complessità della grande letteratura ed è bello sì 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 poi ovviamente c'è tutto il Tolkien e tutta la sua la sua incredibile passione per creare un mondo e infilarcisi dentro con tutte le scarpe straordinario e anche folle al tempo stesso quello che lui ha fatto grande letteratura per me il signore degli anelli sì lo può essere ma ad esempio l'isola del tesoro secondo me lo è secondo me il signore degli anelli ha proprio dei difetti grossi cioè è proprio come dicevate troppo descrittivo sono d'accordo cioè è un po' una tomella è un po' una pezza come si dice in italiano una volta ti rompe un po' le palle questa cosa è davvero come posso dire proprio un po' spiegone è proprio un po' uno spiegone il signore degli anelli in questo per me non è una prescritta particolarmente bene però grande fantasia bello il tema per me il tema il signore degli anelli ha mille temi per me il tema veramente affascinante è la magia che abbandona il mondo il signore degli anelli è un romanzo di formazione ed è un romanzo di maturazione di un personaggio il vero protagonista che è Sam che vede la magia di radarsi dal mondo e ritorna nel mondo non più magico il finale del signore degli anelli è da lacrime proprio io piango solo se ci penso è stupendo bellissimo perché ha un significato profondissimo però la costruzione in sé il letto da ragazzo meno super appassionato letto oggi zomma zomma non funziona secondo me sempre tanto non credo di avere fantasy nel weather shop però comunque ripeto è da leggere però secondo me oggi un ragazzo una persona di 35 anni che magari ha fatto le sue letture che non ha mai letto il signore degli anelli letture importanti e tu gli dici leggi il signore degli anelli secondo me si rompe il cazzo non lo finisce neanche invece se hai 17 18 anni 15 sei a seconda che io avevo 18 però magari uno anche più giovane e ti approcci alla letteratura prima volta gli Asimov i Tolkien sono perfetti sono perfetti ti fai dei viaggioni clamorosi e magari sei un po' meno fine come gusti io la vedo così però insomma poi ognuno no no per carità Enten assolutamente sono d'accordo con quello che dici però in ogni caso cioè la storia della letteratura offre talmente tanta roba che io non metterei mai il signore degli anelli tra le opere fondamentali da leggere nella vita cioè proprio è comunque un'opera che ha avuto grande successo ok questo è fondamentale da dire cioè sono quelle opere e poi vedi anche il discorso cinematografico sono quelle opere che entrano nella cultura condivisa generale delle persone però questo in sé non è un valore letterario vado avanti vado avanti vado avanti io vi consiglio di non leggere la roba sulla base di che genere è di appartenenza vi sconsiglio di dire voglio leggere un romanzo che ci sono i draghi o un romanzo che ci sono le astronavi cioè questo veramente per me non è una cosa che dovrebbe rientrare nelle considerazioni di che cosa una persona voglia di leggere proprio perché sono elementi che non sono né belli né brutti né buoni né cattivi e quindi il genere di appartenenza già perché tendenzialmente magari a volte ingiustamente nei confronti di alcune opere dire quella è un'opera di genere è sminuitivo perché se in un'opera è rilevante il genere di appartenenza cioè qua ci sono i draghi high magic low magic lì ci sono le astronavi che cazzo non c'è se queste caratteristiche che sono neutre cioè non dicono niente poi della qualità di un'opera sono così rilevanti nel parlarne allora l'opera capito cioè un testo può essere interessante parliamo di testi letterari può essere interessante per tantissimi motivi ok però se tu prendi il classico delitto e castigo di Dostoevsky è incredibile la capacità di costruire la psicologia dei personaggi cosa che nel Signore De Anelli povero Tolkien cioè vai a paragonare con Dostoevsky però per rendervi l'idea la profondità psicologica la costruzione dei personaggi che è la cosa più importante in un'opera leggetelo leggete Dostoevsky e vedrete che cosa vuol dire costruire un personaggio dopodiché i dialoghi leggete Dostoevsky e scoprirete cos'è un dialogo in un'opera letteraria e anche tanti altri autori naturalmente dopodiché i significati le tantissime i tantissimi contributi le tantissime filosofie che vivono all'interno di quell'opera oltre che quella dell'autore stesso la storia in sé è appassionante ma siamo a dei livelli cioè a me non è che chi se ne frega se non ci sono i draghi ma cosa vuol dire ok ok quindi quindi per quello dico che appassionarsi a un genere dire a me piace il fantasy a me piace la fantascienza ma che cazzo vuol dire è un livello non basso è un livello superficiale di giudicare un'opera non vuol dire nulla ovviamente puoi avere la grandissima opera con i draghi la grandissima opera con le astronavi oppure no bisognerebbe cercare qui stiamo parlando di letteratura per una volta ma ovviamente vale per tutti gli altri media bisognerebbe cercare la grande capacità di costruire i personaggi la grande capacità di raccontarli la grande capacità di farli interagire fra loro e così via e poi eventualmente i grandi significati più ci sono queste cose più un'opera è bella e poi tutte le opere hanno dei difetti io mi ricordo ad esempio a proposito di descrizioni che magari ogni tanto oggi poi magari abbiamo una sensibilità diversa siamo più frettolosi rispetto a magari cento anni fa però ragazzi la montagna incantata è uno dei romanzi più belli che esistono ma ci sono certe descrizioni che ti viene voglia di spararti poi ovviamente l'esperto mi dirà che queste cose sono funzionali ed è vero che sono funzionali però ti viene veramente voglia di morire questo lo voglio dire comunque no ma Dostoievski non è che lo si cita a caso non è che lo si cita a caso stiamo parlando di uno dei grandi ma che grande scoperta l'ho scoperto io di uno dei grandi maestri della letteratura uno parla di Tolkien uno cita Dostoievski e calano gli spettatori ma siete dei cretini a calare cari spettatori perché in realtà non vi rendete conto di che cazzo di figata fottuta cioè se vi è piaciuto Il Signore Narelli che per buona metà è una rottura di coglioni e altre cose sono bellissime ma ragazzi ma Dostoievski ma voi volate ma voi volate nel cielo avete idea delle emozioni che vi regalerebbe un romanzo come delitto e castigo ma non ve lo immaginate neanche è per quello che sono critico nei confronti di quei recinti di fan che usano le iperboli che di solito la grande critica ha riservato alla grande letteratura per opere che non sono un cazzo ma è logico ma è logico che se tu non sei mai entrato a contatto con le opere di altissimo livello e allora Tlou 2 è la grande narrativa però ragazzi Tlou 2 è una sega come narrazione però come fai come fai se tutto il tuo mondo sono se in libreria l'abbiamo già fatta se in libreria Harry Potter il Signore degli Anelli Lovecraft e che cazzo ne so è Asimov alcuni di questi li amo tantissimo però in ogni caso tu non hai il panorama mentale per dire guarda cazzo Tlou 2 che cazzo di opera didascalica che quello che hai capito dopo 5 minuti te lo reitera per 30 ore finché non ti viene voglia veramente di prendere Druckmann e fargli quello che fa la tizia e fa il tizio Abby scusate questo era volgare l'ho letto il post di Luca sono abbastanza d'accordo con lui no no The Crypt ovviamente non mi riferisco a questo non esiste un modo oggettivo e sopra le parti per dare il giudizio finale su un'opera ci mancherebbe altro però diciamo che lavorare sul proprio background sulla propria come si dice valigia delle cose che hai nella testa non so come si dice c'era un modo per dirlo me lo sono dimenticato cazzarola ti aiuta ti aiuta a non mangiare sempre la stessa roba cioè io una cosa che noto del pubblico che ama le robe iper commerciali è che sta gente è sempre contenta di sempre la stessa roba ma non lo vedi che è sempre la stessa sbobba è questo che mi colpisce comunque sia poi ci sta anche cazzeggiare in tutto questo bagaglio culturale cituk pd volevo dire bagaglio culturale è detto la valigia che hai nella testa non c'è male questo è il cervello che va in pappa ragazzi queste live un giorno io non riuscirò neanche più a connettere voi ma vi rendete conto alla mia veneranda età la sensazione guardate che è tremendo perché è una sensazione è una consapevole sono ovviamente rincoglionito rispetto a quando avevo vent'anni voi non avete idea di quanto io sia rincoglionito rispetto a quando avevo vent'anni ma la cosa assurda è che è una consapevolezza ma non è una sensazione cioè io sono consapevole che non riesco più ad essere bravo mentalmente come quando avevo vent'anni o venticinque anni ma non ne ho la sensazione è tremendo è pesissimo è pesissimo esatto esatto i robi poi alla fine a te piace Thomas Mann a me piace Dostoevsky o Kojima cioè non voglio dire poi non esiste un criterio però lo vedi che una persona che ha mangiato tantissimi libri o tantissimi film ha una sensibilità diversa rispetto al ragazzino che non l'ha fatto non c'è niente di male in questo non c'è niente di male in questo il problema di internet è che internet è in mano a ragazzini che non hanno niente in testa perché stanno sempre su internet e questo è un problema ah ma il rapporto con la ripetitività oh ragazzi oggi la live di oggi abbiamo usato vagamente questo articolo il rapporto con con la ripetitività è qualcosa che a me colpisce sempre tantissimo a proposito di videogiochi e del mondo dei videogiochi ragazzi il problema della ripetitività è qualcosa cioè esiste una fetta enorme di videogiocatori non solo che tollera la ripetitività ma la vuole la cerca la chiede la pretende io non so che cosa dire io non so che cosa dire cioè il fatto che per come la vedo io il medium videoludico è il più potente che ci sia quindi potenzialmente il migliore ma poi qual è il problema dei videogiochi su questo ne parlavo anche con Luca qual è il problema se metto un'immagine a schermo così c'è un'immaginetta qual è il problema dei videogiochi il problema dei videogiochi sono i videogiocatori e per certi versi il problema dei videogiocatori sono alcuni moltissimi videogiochi pensate quanti videogiochi si riducono all'attività compulsive e ripetitiva ad attività compulsive e ripetitive per aumentare dei parametri cazzo e beh beh questo questo la gente vuole oppure la narrazione hollywoodiana così è la grande letteratura e allora questo gli dai e quindi quando parli di videogiochi su internet a chi stai parlando di solito ovviamente con le eccezioni e questo è il problema le persone sono felici di livellare le persone sono felici quando tu gli dai la fatidica componente RPG che non è un cazzo di roleplaying le persone sono contente le persone sono felici di fare sempre le stesse cose e quindi c'è un problema il videogioco è potenzialmente il massimo del massimo ma fattualmente è quasi sempre ovviamente con le super belle eccezioni è quasi sempre lo strumento più potente per per spappolare cervelli e lo sappiamo benissimo ma non è soltanto il gioco senza fondo le slot machine eccetera è proprio questa con tutti i suoi strumenti di ricompensa eccetera eccetera questa educazione alla ripetizione di attività dementi sempre uguali a se stesse e quindi un abbassamento non è tanto il pensiero critico in sé ma di fatto è un abbassamento delle pretese è un peccato ma è un peccato perché il mondo è talmente vasto le opere belle sono talmente tante che come cazzo fai a stare a ripetere 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 per far sì che quel 23 diventi un 24 e quel 24 un 25 e così via sono d'accordo molto scalzo ti ringrazio della tua obiezione perché è bella è bella la tua obiezione è giusta è giusta non lo considererei un recinto proprio perché cercare di non avere recinti ma se nella vita ha ragione che in realtà dicevo che nella vita ha ragione che non soffre il punto è che quando una persona ti dice che si diverte a livellare e poi magari blocca il controller con i tasti premuti sapete che sono dei modi automatici mi ricordo quando dovevo livellare a Final Fantasy X che avevo trovato un modo semi-automatico con la tastiera non proprio però con la tastiera per livellare 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 non è vero che le persone si divertono a livellare livellare non è divertente non c'è niente di divertente nel Monster Hunter a sapere che quel che quel cazzo di tirannosauro con le piume lo devi ammazzare 300 volte per avere l'armatura contro i fulmini del culo non c'è niente di divertimento quello non è divertimento le persone mentono non si stanno divertendo sono semplicemente attaccate morbosamente e letteralmente una sorta di droga da ricompensa a queste attività non sono persone che non soffrono o che godono sono a sue fatte non è non è il godere il godere dopaminico la droga dopaminica vedi appunto il libro della Lemb che apparentemente è un elogio del dolore ma poi è un dolore liberatorio per certi versi ma poi leggetelo perché è più complicato la droga dopaminica non è godere e i videogiochi purtroppo sono uno strumento di di questo anche Marvel Snap mi sono abbastanza rotto il cazzo devo dire la verità però è carino cioè è un solito discorso ma certo diventi esattamente esattamente vermi diventi talmente abituato ma è questo e questo sì è il libro della Lemb che ha la lettera l'era della dopamina leggetelo diventi talmente abituato alle soddisfazioni immediate che il videogioco ti sa dare che è un problema è un problema come fai a passare da clic 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 input feedback immediato non fai a passare da quello a mi leggo i fratelli Karamazov non ce la puoi fare ma non è colpa tua non sei tu che sei stronzo è il tuo cervello che non ce la fa più perché come diceva il tizio citato dalla Lemb che nell'introduzione il nostro rapporto con il rilascio di dopamina è esattamente come un cactus in una foresta pluviale anneghiamo in una cosa che pure è buona in questo senso i videogiochi possono essere deleteri e quando vedo che cosa il popolo dei videogiocatori chiede ed ottiene dall'industria dei videogiochi mi incazzo mi incazzo perché dai il medium più potente spesso è sprecato poi per fortuna c'è l'autore indipendente figo c'è magari l'autore dipendente ma cazzuto figo alla Kojima le cose belle arrivano lo stesso e poi sei sottoposto come dicevamo sono informato sui Kardashian contro la mia volontà sei sottoposto a persone che non hanno idea che non hanno gli strumenti per rendere interessante la loro opinione che ti bombardano delle loro opinioni è come una volta non esiste l'opinione buona ma esistono opinioni che hanno tante facce sono tanto interessanti perché le persone hanno tante cose da metterci dentro ed esistono persone che non avendo questi strumenti non possono fisicamente produrre opinioni interessanti una volta un tizio mi scrisse su Instagram non sono d'accordo con te non segui neanche l'argomentazione in quel caso lì ma comunque non importa io andai a cliccare sul profilo questa persona aveva 19 anni ora è sempre possibile che un 19 anni sia un genio non voglio mettere le mani avanti ma io dovrei avere un filtro per non essere sottoposto al parere di persone di 19 anni anche rischiando di non beccarmi il genio perché come cazzo ma che cazzo me ne frega di cosa pensa una persona capite cosa voglio dire è uno dei problemi di internet è la compresenza di tutte le generazioni e soprattutto il fatto che i dominatori di internet sono le persone che stanno tantissimo su internet i veri videogiocatori duri e puri sono persone che nella vita la loro unica attività culturale è videogiocare certo puoi beccare la grande bazza però hai capito e quindi e quindi così in tutto questo io non ho ragione io non sono uno che critica meglio degli altri eccetera eccetera ma chi lo sa non esiste neanche un criterio per dirlo il problema è che si creano veramente i recinti a difesa del proprio provincialismo culturale per cui solo i manga shonen solo i romanzi fantasy però high fantasy i low fantasy non mi piacciono ma che cazzo ma che discorso ma che discorso che non significa letteralmente nulla nel mondo della storia e della cultura nessuno è così scemo da ragionare così ma il golden pet grazie Jacopo e grazie del prime e quindi e quindi dimmi sì Simo Vanks dimmi tutto questa argomentazione bruttina è un'argomentazione bruttina no sono curioso ma per carità dimmi devi fare una preselezione e per la preselezione fidati dei classici vai sui classici è sempre quello il discorso Luca ed è così grazie pleva e grazie del prime non l'avete non l'avete mai notato chi è che imperversa sui come fa una persona a imperversare su internet dedica tantissimo suo tempo alla creazione di contenuti online sono le 16 sì 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 non è un principio di autorità non è che ne sono di più perché sono più vecchio Simo io non ho detto questo è che l'esperienza conta nonché il fatto di non come ti posso dire non limitarsi a un solo media un solo genere un solo è il solito discorso sono li ho tolti da Silicon perché meno posti con commenti ho meglio sto ma sì ma sì ma lo vedi lo vedi ovunque lo vedi ovunque adesso noi parliamo sempre magari delle stesse cose comunque andiamo sempre a parlare negli stessi esempi ma no ma guarda SuperDP l'esempio che fai li conosco anch'io mi è capitato no l'esperienza non dipende dall'età però l'età è come ti posso dire l'età in sé non vuol dire nulla anzi può voler dire essere rimbecilliti ma è impossibile fare esperienza senza tempo quindi facilita la possibilità di incontrare una persona esperta che abbia un'età grazie Zabba però non significa niente ovviamente il discorso che fa SuperDP sulla sua madre è un discorso giusto e interessante cioè non è che una persona di una certa età sia più sveglia anzi di solito il contrario anzi è meno sveglio nel mio caso io sono molto meno sveglio di quando avevo vent'anni non ci sono dubbi su questo mi capitò di beccare una persona di grande cultura eccetera eccetera che aveva la puzza al naso e si parlava di cinema e questa persona disse venne fuori Miyazaki a Yao e questa persona disse ma i cartoni animati sono per bambini roba che tu dici ma porca e ti aveva appena parlato dei grandi architetti di sto cazzo e questa persona ti disse cartoni animati io e il mio amico quando questa persona disse così eravamo vicini all'idea di lanciarle i bicchieri e i piatti in testa ma questo di fronte allo snobismo e al settarismo non c'è esperienza che tenga ovviamente però in realtà questa persona che era più anziana eccetera eccetera in realtà aveva una mancanza di esperienza perché non aveva idea di cosa stesse parlando ovviamente sì 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 c'è una correlazione diciamo così certamente sì zodiac certamente sì naturalmente io posso io posso essere questa persona era espertissima di architettura ok io posso essere espertissimo di architettura non avere un'idea di anime faccio per dire ma allora non dirò gli anime fanno schifo perché non ne ho un'idea ovviamente eh non mi ricordo non mi ricordo neanche più com'era il discorso ah no che diceva la madre di superdipi scusatemi pesissimo superdipi ti abbiamo preso non riesce ad apparsonarsi alla fantascienza a me sembra simile invece perché si vede che pensano lo so ah sai gli astronavi mi sembra una stronzata che cazzo io l'ho letta così poi magari non è così ma sì volpe non sono d'accordo ma ripeto non è una questione di l'età ti porta saggezza o ti porta cultura di solito l'età non porta un cazzo vedi la situazione italiana anzi di solito l'età è peggio perché un quarantenne è peggio di solito perché il quarantenne non solo è sempre un cretino non ha imparato un cazzo ma poi dimentica quello che sapeva perché c'è il discorso dell'analfabetismo di ritorno quindi è sicuramente meglio un ventenne ignorante di un quarantenne ignorante non ci sono dubbi su questo perché almeno è molto più sveglio e ha più fresche se non altro le spinte della scuola non c'è nessun dubbio su questo e infatti vedi i cinquantenni su facebook eccetera ma una persona che studia legge impara e fa un percorso intellettuale nella sua vita di qualunque tipo esso sia e rimane umile che ha voglia di avere la mente aperta eccetera sarà sicuramente più interessante quello che dice quello che pensa quello che condivide a 35 anni o a 40 anni che a 20 ma per ovvie ragioni di sviluppo eccetera sei sempre il primo a dire guarda che cretino ero a 20 anni rispetto a quando ne hai 40 poi sei il cretino di te che ne avrai 60 ma non più il cretino di quando ne avrai 80 perché l'alzheimer farà sì che tutti questi discorsi finiscano sì ma esatto Leopardi cioè casi come Leopardi o John Stuart Mill che a 5 anni traduceva da latino sono casi un po' estremi un pochino ok finiamo l'articolo PD sì dai finiamo l'articolo insomma donne fandom cosplay qui ci siamo arrivati perché poi sono anche risalito ok ok romantico e sessuale eravamo finiti il Marvel Cinematic Universe dovrebbero scopare ininterrottamente non lo fanno queste varie comunità non vanno sempre d'amore d'accordo le persone principalmente uomini impegnate in cosiddette attività di curatela potrei aver sbagliato l'accento di questa parola perché non l'ho mai sentita pronunciare da nessuno l'ho sempre letta ma mai sentita curatela vero? mamma mia ovvero che esprime la propria passione imparando a memoria quanti più fatti possibili yeah su una storia un personaggio dibattendo quali siano gli episodi migliori di una serie o in quale ordine abbia senso guardare i film di Star Wars spesso guardano con un certo sospetto se non con aperta ostilità e persino disgusto quelle che partecipano ad attività trasformative ovvero che manipolano le storie che amano creando arte ispirata ai personaggi scrivendo racconti le fanfiction che coinvolgono questi personaggi ok praticamente qui lui sta spiegando lei sta spiegando che può esserci un contrasto fra il purista del canon e magari quello che fa le fanfiction ecc oddio in realtà poi non è neanche detto che ci sia un contrasto alla fine c'è la cosa canon e c'è la cosa non canon questi cazzi però magari qualcuno fa incazzare i fandom trasformativi mi sembra di essere in un libro di scienza della comunicazione i fandom trasformativi sono composti principalmente esatto Mitsubishi giustissimo i fandom sono composti principalmente da donne e persone LGBTQ plus avranno dei dati e magari questa cosa è vera io ho paura quando il post inizia a introdurmi questi discorsi ragazzi questo articolo è lungo lo finiamo e ora non ce la faccio domani ripartiamo da questo raga ho deciso di fare live di due ore questa avrebbe una live da quattro sono impazzito a perdere devo ricordarmi a perdere così tanto il filo prima all'inizio abbiamo fatto mille discorsi non ricordo neanche quali no domani no dopo domani dopo domani dopo domani giovedì alle ore quattordici per quanto riguarda fare una blind run ve lo mi stupisce beh è così ah mi stupisce che coglione che sono e vabbè scusami dopo domani c'è anche il video di shy pesissimo vabbè già già se siamo capiti avremo le cuff avrò gli auricolari che non useremo perché dovremo finire quell'articolo comunque ve li farò vedere e quindi dopo domani vi dicevo che vorrei fare almeno una blind nel 2023 la vorrei fare la prossima settimana mi piacerebbe partire o forse la settimana dopo era meglio se stavo non lo dicevo comunque vi aggiorno e vi dirò quale sarà uno slot che non è di questi due ma sarà un altro che dedicheremo a una blind poi basta non ho ancora deciso niente assolutamente nulla è tutto assolutamente in aria non lo so c'erano tantissimi giochi papabili è una cosa infinita non lo so vorrei un gioco non troppo lungo non troppo frustrante non troppo solo però testo a schermo bello pieno di roba bella e vi ringrazio poco fa Sabaku ha postato tette waifu sul suo telegram per errore non dovrei ridere può capitare mi immagino mi immagino un povero Mike veramente va bene ragazzoni state benissimo non metto neanche la sigla se no vi non fa il troppo lungo poi su youtube state bravi ci vediamo dopo domani e se avete se delle cose non siete convinti poi continuiamo a parlare discutiamo magari ho detto delle cose sbagliate e ne discutiamo ciao ragazzi buon pomeriggio buona serata